Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime, e sono qui quest'oggi per darvi di nuovo il benvenuto alla cantina di Mos Eisley. Oggi tante novità, il cancelliere è diventato imperatore, sembra comunque una personcina per bene nonostante abbia la faccia da mostro di Bram Stoker e vada in giro incappucciato. Oltretutto pare che i Jedi, guardiani di pace per millenni, improvvisamente siano diventati traditori e in risposta il nostro adorato imperatore ha pensato bene di sterminarli tutti, bambini compresi. Ma siamo certi che nei prossimi anni la prosperità investirà la nostra amatissima galassia. Ne parliamo con i nostri esperti, cominciando da Dark Andros. Salve! Hello there! Ne l'aspettavo Dov'è? Dov'è? Non lo sento Non lo sento Cosa ho detto? Hello there! General Hello there Esatto, esatto, dobbiamo cominciare così Ah, volevi la risposta È per forza, è per forza Cosa dobbiamo fare? O meglio, salve a tutti Esatto Buonasera, buonasera Cioè, buonasera, vabbè, ormai ho gli orari tutti spallati Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti bentornati qui Sono felicissimo di essere qui Siamo pronti per un combattivo negoziato Siamo pronti per finire, per chiudere, diciamo, questa trilogia prequel insieme E lo faremo qui, con il negoziatore Il generale Kenobi Abbiamo poi Robi Rani, benvenuto Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti In scoccia da morire È ritornato In scoccia da morire Aver perso la puntata della settimana scorsa Purtroppo il lavoro è chiamato all'ultimo momento Per cui non ho potuto staccarmi Inoltre oggi è cominciata la didattica a distanza col piccolo Per cui stamattina ho fatto il dead, appunto In tutti i sensi E oggi mi sono preso a mezza giornata Per cui sono tutto qua Pronto per questa sesta sfida Interessantissima Prima dell'ecatombe disneyana Ma anche oggi non so come andrà Oggi è interessante Oggi è interessante Salutiamo Giovanni di Star Wars Libri e Comics Benvenuto Grazie mille Buon pomeriggio a tutti Siamo pronti per quello che io sono convinto sarà Il primo non combattivo, ma combattivissimo Negoziato di questa rubrica Però sappi generale Matioschi che sei un bell'impudente D'altro canto è un elemento che mi contraddistingue Più tardi speriamo arriverà anche Victor Sapete che una presenza è la minaccia fantasma Arriva, se ne va, ci dice la sua, lancia le bombe Poi incuranti del risultato, scappa Può darsi che arrivi Mentre invece purtroppo oggi non sarà della nostra Il mitico Emilio di Unbounce per motivi lavorativi Il lavoro che va a plagiare sempre questa rubrica Comunque, classica domanda di introduzione Prime impressioni del film all'epoca dell'uscita Andros nel prediretta ci ha fatto presente che sono passati 16 anni Sono passati 16 anni e infatti volevo ricordare Partiamo subito con uno spoiler Molto bene Esatto, partiamo subito con uno spoiler Volevo ricordare che i bambini che in episodio 3 Interpretano in fasce Liu Keleila oggi hanno 16 anni Quindi volevo ricordare Diciamo questo punto La mia prima visione è stata al giorno dell'uscita Nel 2005 Quindi vi posso anche dire dove Perché è già più vicino Come vi ho detto per l'episodio 2 Che era stato al Teatro Manzoni E c'era anche il Cinema Manzoni Che poi è stato chiuso qui a Milano Fu a quello che era Si chiamava Europlex Bicocca All'epoca Che poi è diventato Ucicinemas Bicocca Qui a Milano E prenotai insomma i biglietti All'epoca ancora non conoscevo Queste belle persone Che sono qui con me Altrimenti avremmo fatto un gruppone pazzesco E quindi andai insomma Avremmo fatto di buona cosa Ci saremmo conosciuti soltanto Cinque anni Quattro cinque anni più tardi Quindi L'abbiamo mancata per poco Sennò saremmo andati tutti insieme Quindi all'epoca Organizzai Pensate Perché mi ricordo che il film uscì a maggio Il Episodio 3 E facendo io gli anni il 17 maggio Proprio capitava Forse usciva proprio il 17 maggio Ora non ricordo Comunque era proprio tipo O il 19 Insomma comunque uno di quei giorni lì E ricordo Che appunto organizzai Per il mio compleanno Invece di fare la festa Organizzai Andiamo tutti al cinema E andiamo a vedere appunto Episodio 3 E lo vidi tre volte al cinema Per dire quanto Mi piace Sì 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 Lo vidi tre volte Non ovviamente nella stessa giornata Però Insomma nel corso Insomma del mese successivo Anche perché rimase Nei cinema tanto Quindi rimase Se non ricordo male Un buon due mesi Nei cinema 20 maggio Quindi 20 maggio Appunto io c'è gli anni il 17 maggio Quindi eravamo lì Proprio il 20 Eravamo Eravamo lì pronti E E fu E a me piacque tantissimo Quindi quella sicuramente Prima visione Mi piacque tantissimo Poi Ero comunque molto dentro Diciamo nella questione dei pre Quella parte Episodio 1 Che non mi era piaciuto Granché Come vi ricordavo anche la volta scorsa A me Episodio 2 Tutto sommato Era piaciuto Poi ovviamente Ne avevo colto i difetti Ne avevo colto tutto Però a me era piaciuta Mi piaceva l'atmosfera Anche di discontinuità Rispetto Alla trilogia originale Anche se ovviamente Lo accusavo Questa cosa Perché anzi Ero curiosissimo Di vedere Quale sarebbe stata No appunto La liaison Tra le due trilogie Perché ovviamente Noi eravamo partiti Per episodio 1 Episodio 2 Tutto nuovo Meraviglioso Bellissimo Lucente Pianeti E tutto quanto E poi nella trilogia originale In realtà vediamo soltanto Distruzione Catapecchia Gente con i bulloni Del 2 Che ripara le navi E in qualche modo Cioè Ricordiamoci questa cosa Perché il Millennium Falcon Stesso No capito La navi veloce La galassia E cose del genere Funziona A calci in bocca Proprio sparato così Che gli devi tirare i pugni E poi È molto scortese Tra l'altro Anche l'intelligenza artificiale Del Millennium Falcon Vogliamo ricordare Tre Pio Che lo diceva Che era molto scortese Non sa Dove avesse imparato A comunicare Invece Adesso lo sappiamo Adesso lo sappiamo E come si dice Mentre invece Di là Avevamo appunto Navi che bastava Schioccare le dita E partivano Quindi era Era bello Come vedere Insomma Come ci si sarebbe arrivati Noi oggi sappiamo Che Non ce l'hanno fatto vedere Come ci si è arrivati Nel terzo film Infatti è uno dei difetti Che poi dopo Penso Andrò a dire Dopo Quando lascerò parlare Anche gli altri Però ecco Quella è stata la mia Prima visione Tre visioni al cinema E poi ovviamente Appena uscì In DVD All'epoca Comprai il DVD Due volte Per essere sicuro Che non si consumasse Esatto Abbiamo la super chat Di Danny Lampard Che ci dice Questo è stato Il mio primo Star Wars Se ero convinto Se ero convinto Fosse questa La trilogia sequel Conoscevo Darth Vader Solo per i meme E vedere che Anakin Diventava lui Alla fine Per me è stato Un colpo di scena Incredibile La cosa per me È bellissima Provo un'invidia Per lui In moda È veramente Meraviglioso Giuro Mi ha colpito Sto messaggio In maniera Pazzesca Se ci pensi Robby Se ci pensi Adesso ovviamente A parte tutto Se ci pensi Per chi Non aveva visto E non aveva idea Di che cosa fosse Per dire Di colpo di scena Ne ha due Perché ha il primo colpo Di scena Di Anakin Che effettivamente Diventa Diventa Come si dice Darth Fener Lo stesso imperatore Anche se un po' Si capisce Però Però mettiti Cioè A meno che Certo Bisogna avere la testa Sotto la sabbia Però In generale Magari Mettilo lì Come colpo di scena Anche questo E poi hai Il colpo di scena Ulteriore No Non hai però L'altro colpo di scena Giusto Perché lo sai Che sono figli suoi Eh sì Giusto è vero Quindi o uno o l'altro Alla fine Quindi non so in realtà Robby Quanto è da invidiare Perché Tu lo barattisci Baratteresti Ecco questa è una domanda Interessante Baratteresti il colpo di scena Di Luke Sono tuo padre Con invece Ma no Che diventa Darth Fener Ma no No È una cosa È una cosa diversa Mi entusiasmava L'idea di una scoperta Della saga In maniera Completamente Inusuale Cioè Conosceva Darth Vader Solo per sentito dire No Per cui conosceva Il cattivo nero Di un film spaziale Che si chiama Darth Vader Da Darth Fener Va a vedere un film Che crede Che possa centrare Con quello Alla fine si accorge Che ha visto Un prequel Per cui deve essere Cioè È una figata No A me è capitato È capitato In Nel film Il secondo Della trilogia Di Di Shyamalan Glass Come si chiama Quello in mezzo Ah sì Ho capito Split Split Che alla fine Scopri Che fa parte Del È un po' Lo stesso Flash Mi è piaciuta Molto Quell'emozione Per cui Qualcuno L'ha provata Per Star Wars È figo Io ricordo Che un sacco Di mie amiche Che all'epoca Sbavavano Per Christensen Nei tempi Di episodio 2 Non avevano idea Di cosa sarebbe diventato Io ero lì Che me la ridevo Tantissimo Che bello Ma sai come si dice Qui anche Anche le ragazze Che ci seguono In chat Girls love bad boys Quindi questa È la tua risposta Soprattutto Quelli in metà macchina Roby Prima visione Nel lontano 2005 Si è fermato Per il trauma E poi si lega Con questo Sì Un pochino sì Ma in realtà Anche a me Episodio 2 Mi era piaciuto Perché avevo visto Un Un cambio di direzione Molto interessante Cioè Tutte le critiche Che io avevo posto Per l'episodio 1 Sembrava che fossero state Salve Ciao Vittor Fossero state ascoltate Per l'episodio 2 Per cui ero contento Di vedere un inizio Traumatico Col sangue Con l'ancella Che viene ucciso E bla 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 Poi Django La guerra dei cloni Su Geonosis Insomma C'erano tantissime cose fighe Per cui ero abbastanza Contento Anche il finale Con Yoda Versione Blaze Versione trottola Mi aveva gasato Di brutto Tutta la parte Di Nabu Delle zecche giganti Lasciamo perdere Però insomma Mi era piaciuto Questo salto Mi aveva fatto ridere Pochissimo Quasi nulla Il nervoso Di citare più occhio Tutte le battute Tutte quelle stronzate Su Geonosis Non mi era piaciuto Per cui ero sempre Un po' col dente avvelenato Per quello che riguarda Tutta la linea comica Episodio 3 A differenza vostra Io sono andato a vederlo All'Arcadia Che è un evento Memorabile Tutte le sale dedicate Che c'era Steve Sansu Il responsabile Del Dei fan Praticamente Della Lucasfilm E ci andammo Col furgone Facemmo il furgone Facemmo le magliette Andammo tutti con i chiasco Le spade Era una roba fighissima Sta roba qua Erano un po' Gli albori di Empira Che è il club Di cui sono presidente Ormai da 11 anni Per cui la ricordo In maniera Estremamente emozionante Tra l'altro Fu lì Che Connobbi la 500 Unesima Cominciai a capire Un po' Come funzionava Il fandom italiano Quello un po' Importante Fino ad allora Era una roba Proprio Nelle quattro mure Di casa mia Mentre lì Ho scoperto Che veramente Star Wars Era un fenomeno Anche da noi Totalmente L'Arcadia piena Con 3-4 sale Dedicate Tutte esaurite Tra l'altro Ricordo anche Che feci Il refresh Su Guerrastellari.net Per comprare Biglietti E andare Nell'esaurite Nel giro Di un quarto d'ora Per cui Fu portato anche Un evento E Ricordo anche Che partì La prevendita Io Le acquistai Subito Ma nonostante Tutto Non ero Nella sala Principale E andai a finire In una sala Di fianco Dove non c'era Star Wars In persona Ma c'era lui In video Per cui Fu veramente Un evento Memorabile Per la sera Ero emozionatissimo E terrorizzato Perché non mi sentivo Per niente al sicuro Non essendo Come diceva Dark Andros Quella trilogia Che in realtà Avrei voluto Il tono Era completamente Diverso Anche se Con l'episodio 2 Per alcune cose Ho visto Che stava Cominciando Un pochino A prenderci La parte iniziale Ricordo bene Benissimo Che ero Veramente in tensione E criticavo Qualsiasi cosa Che non andasse Dentro di me Dicevo No Gli insetti Che stanno Sulle astronavi Che si sbattono Con questi insetti Robotici Avevo veramente La paura Sfociata Con Tracagnotto Con Super droid Con Super battle droid Che mi dice Tracagnotto Lì me ne stavo Veramente Per Stavo per Cadere a terra Dall'imbarazzo Ma ero eccessivo Io Mi rendo conto Che era Molto esagerata Come reazione Ero troppo Su di me Detto questo Il film In realtà Non Non mi ha mai Fatto morire Questo purtroppo È il mio problema Perché è un film Estremamente dark Perché Hayden Christensen Non mi aveva convinto Non mi ha mai convinto Perché La cosa che aspettavo di più Era il combattimento finale Il combattimento finale Mi sembrava Un incontro di spadaccino Dance Anni 90 Tutto ritmato Poco credibile Non sono riuscito Ad appassionarmi A questo film È uno dei film Che mi ha lasciato di meno Che guardo meno volentieri Guardo molto più volentieri Episodio 1 E Episodio 2 Questo non me lo nascondo Ma È una roba Mia È mia Non c'è Chi mi dice È il più bello Della tecnologia Dico Ok Ha un senso Lo capisco Lo comprendo Però a livello di cuore È quello che un po' Mi ha Mi ha lasciato di meno Ecco questa è la verità Anche perché sapevo Come andava a finire Interessante Signor Giovanni Stessa domanda È un rito Di passaggio Allora In realtà Il mio primo approccio Con questo film È stato Con il videogioco Perché Qualche mese dopo L'uscita Io non l'avevo Visto Non sapevo neanche Che fosse uscito Nel senso Avevo otto anni e mezzo Me ne fregavo abbastanza Di quello che usciva Di quello che usciva Ma come avevi otto anni e mezzo Però un attimo Com'è possibile Questa cosa Anni e mezzo Scusa Eh sì Io ho compiuto nove anni Il quattro settembre Del 2005 Quindi Ragazzi io esco Ho impiegato un po' a realizzare Poi ci sono arrivati Sì E invece E invece Comunque appunto Avevo otto anni e mezzo Quindi non sapevo neanche Che fosse uscito Insomma Ho ricevuto Qualche mese dopo Il videogioco In regalo Da mio zio E L'ho consumato Davvero Per quanto ci ho giocato C'era la campagna con Anakin Quella con Obi-Wan L'ho giocato a tutte le difficoltà E poi alla fine Quando lo completavi Nella difficoltà Maggiore Ti diceva di provare a giocare Girando la console E è una roba Diceva Prova a giocare Con lo schermo invertito Giuro Giuro E l'avevo giocato anche così L'avevo giocato anche così Però solo alla difficoltà facile Perché era impossibile Ovviamente Così Ma è più aggiuntiva Peccato che poi altri giochi Non abbiano preso Lo stesso punto Cioè Gioca senza vedere Sarebbe carino Esatto E poi si definiscono Pro player Ma continuano a guardare Lo schermo Non va bene Esatto No no Comunque semplicemente Dovevi proprio ruotare Di 180 gradi E vedere tutto sotto sopra No? In quel senso Ah in quel senso Sì sì No no Sotto sopra Sotto sopra E Ci ho provato E l'ho fatto a livello facile E poi mi sono rotto le scatole Perché era un casino Sì sì no E vabbè Il film poi di preciso Non so quando l'ho visto È stato Penso un anno Due dopo Giù di lì Comunque Ero ancora lì Tra elementari Medie In quel periodo E ricordo però che Mi era piaciuto un sacco Perché già il videogioco L'avevo davvero Mi aveva fatto impazzire Il film ancora di più Perché Era quello che vedevo Nel videogioco Ma appunto Vederlo su schermo No Da sempre quel Quel fomento In più Quindi ero veramente impazzito Per quel film E per lungo tempo È stato il mio preferito Poi L'opinione È leggermente Mutata In negativo Ma non così tanto Rimane ancora adesso Un film che mi piace molto E poi appunto Anche Questi ricordi No Diciamo Alimentano L'affetto Che provo Per questo film Certo Antonio Crocetti Ci dice Ma solo io Fra lato chiaro E lato oscuro Avrei scelto Una vita di esilio E vergogna A copulare con Padme Beh Tutto sommato Effettivamente Poteva essere una buona scelta Non saresti stato l'unico Perché No Probabilmente no Insomma In questa trilogia Apricola Entrambe le scelte Sono una merda Ma proprio entrambe Mentre quella È la direzione Più giusta Da seguire Victor Allora Io invece Io non sono d'accordo Ad esempio Cioè Non è che non sono d'accordo Sono semplicemente Di un'opinione diversa Rispetto ad esempio Roby Perché l'ho trovato Uno tra i migliori film Della saga Per quanto riguarda Ma come ha detto lui Sono cose personali Dipende anche Dalla percezione Che hai nel Quanto riguardi Sì sì Ma io non discuto Sulla qualità del film È una roba No no è una cosa Ci sta assolutamente Non voglio chiarirla Questa cosa Attenzione Perché siccome Il film in sé Non è questo granché Questo è il fatto Gioca tutto L'emozione Che ti ha generato Perché il film È pieno di puttanate Cioè nel senso Ripeto Nella versione italiana Abbiamo anche un problema enorme Che hanno cambiato Il doppiatore Di Palpatine Che era diventato Vairano Quindi se nei primi due film Avevano una voce affabile Qui è proprio Vedi Andiamo a teatro Insieme Lascia che ti racconti Di Darte Plagies Ti ricordi Ho capito Chissà chi è il cattivo Del film Mi domando Chissà chi sarà Cioè Se negli altri film Aveva la voce Da John Bialone E già era assurdo Che non Non si interrogassero Su chi potessero essere Il cattivo Qui va in giro Vestito di nero E come sta Cancelliere Presto ci sarà morte Cioè nel senso Chi sarà mai L'infiltrato Chi sarà mai Il cattivo Nel senato Vabbè però Cazzata parte A me Il duello su Mustafa È piaciuto da morire Anche se Posso capire Quello che ha detto Roby prima Perché Per quanto sia Spettacolare Ha delle cose Un po' strane Tipo Lui che cade E inizia a prendere fuoco Aaaaa Che dice Sì ma Stai andando a fuoco Un po' più di Di Sì Stai andando a fuoco Cristo Però a parte quello Ad esempio La parte Con lui Che uccide i Padovan A me è sempre Lasciato di Di stucco Perché comunque Quella è una cosa Di una cattiveria In mane Perché non è che Te lo fa vedere Però arriva il bambino Cosa facciamo maestro E lui che lo guarda male E capisci che lo ammazza Un attimino Ti lascia Lì Nel senso che È stata una bella trovata Cioè non te lo aspetti Una Ok Lui aveva già ucciso I I sabipoti Che avevano Rapito la madre Sì Però capisci Ci sta Lì la rabbia Sono comunque Cattivi Cioè fanno male alla gente Posso ancora Ancora capirlo I bambini È straziante Il fatto che I bambini È bruttissimo Quindi Il finale È Secondo me È giusto Chiude il cerchio Anche se ha delle scene strane Tipo Il No Mamma mia Lì non si è mai capito Cosa gli sia venuto in mente Ma a me ha sempre fatto anche strano Palpatine E Darth Vader Che ha già il costume Che si guardano come se fossero innamorati Con la morte dell'incostruzione Mi ha sempre Mi ha sempre fatto È bella Quelle scene in sé È proprio Sembra Il montaggio Di una sitcom Anni 80 Tipo con uno che gli cade Tipo qualcosa E l'altro ride Sembra quella roba lì Con anche Tarkin Che li lascia da soli Sì Esatto E loro che si prendono Mano per la mano Timidamente Il film in sé Io trovo che abbia Comunque Un valore emotivo Fortissimo Cioè Io ricordo che Tra l'altro Ti è presente Quando girano Quegli aneddoti Che sono palesemente Per fare marketing Che dicono anche Quando parlano del film Al telegiornale Io ricordo Distintamente Che c'era questa cosa Su Spielberg Che si era messo a piangere E sull'emotività Guardando il film Sulle emotività di Spielberg Nel corso della storia del cinema Ce ne sono state Di cose belle Ecco io vi ricordo Quando pubblicizzavano Parola Activity Il film che ha terrorizzato Steven Spielberg E quindi Cioè È l'uomo più coraggioso Il film che ha fatto piangere Steven Spielberg E magari è emotivo di suo Cioè Non è che vuol dire Però ricordo Che l'epoca Aveva funzionato Ah cavolo Si è aperto Spielberg Vediamo cosa succede Quindi effettivamente No Va detta Va detta una cosa Va detta una cosa Il Questo episodio 3 Ovviamente Ne avevamo parlato Anche Avevamo fatto Questo piccolo spoiler La settimana scorsa È Il Come si dice Il film più riuscito Ovviamente Dei tre Anche per quanto riguarda Per esempio Gli effetti visivi Perché sono più maturi Hanno Come si dice Si vede Che hanno più dimestichezza Con 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 queste nuove tecnologie Che stanno utilizzando Appunto Perché ricordiamoci Comunque la trilogia Pricola ha dato il là All'utilizzo Degli effetti speciali In chiave In chiave modernissima Come la vediamo oggi Anche se oggi Si è ritornati Un pochino al passato Per fortuna Ricominciando a riutilizzare Props vere e proprie Concrete Unite Alla CGI Mentre invece All'epoca Era proprio Tutti su schermo verde Fisso Al massimo Il pavimento Se andava bene O forse qualcosa Dietro Qualche ammenicolo Ma poi per il resto Era tutto green screen Quello che c'è da dire Di questo film È uno dei primi Grandi esempi Del Del nuovo millennio In cui c'è un utilizzo Straordinario E qui veramente Va fatto un plauso Incredibile Ai ragazzi Dell'ILM Perché Dei Matte Painting Per chi non sapesse Di chi ci sta seguendo Cosa sono I Matte Painting Sono Painting Ovviamente Sapete cosa vuol dire Sono appunto Dei disegni Fondamentalmente Tendenzialmente Iperrealistici Enormi Si parla di dimensioni Veramente gargantuesche È una cosa Incredibile Che venivano utilizzati Come fondali Famosi fondali Vi faccio l'esempio Di Mustafar Per esempio Su Mustafar Tutto quello che voi vedete In sottofondo Quindi i vulcani In sottofondo Il cielo nero Questa specie di eclisse Che c'è Dietro nel cielo Era tutto Un giga enorme Disegno Animato Che per l'epoca Aveva una dimensione Enorme Erano Credo 32.000 Per 32.000 Cioè era una cosa Gigantesca Che veniva utilizzato Proprio Come sfondo Ed erano Le riprese Del letto Nazione Luzione Allora Quella era proprio La lava Che tu vedevi A metà Ok Se tu scomponevi Diciamo La scena Su Mustafar In tre livelli Ipoteticamente C'è il livello Dove c'erano loro Che combattevano In cui Veniva applicato E lì Curiosità Anche Le spade laser In tutta la battaglia De Mustafar Erano fatte in rotoscoping E non in 3D Come invece Le spade Per tutti gli altri I due film precedenti E per la prima Due parti E tutte le altre scene Lì invece In rotoscoping manuale Perché Il contrasto Era talmente eccessivo Che il computer Non riusciva A dare un effetto Verosimile Quindi andava fatto a mano Quindi primo livello Secondo livello La lava Che era vera e proprio Perché gli andò di culissimo Che tipo L'anno prima L'Etna Fece un'eruzione Pazzesca Infatti Corsero in Italia Con gli aerei E tutto quanto Per riprendere Via 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 Dobbiamo andare E vennero qui Immediatamente subito Per riprendere appunto L'eruzione dell'Etna Che poi tra l'altro Anche lì Culo pazzesco Che noi siamo Tendenti a rosa e a rosso E quindi dobbiamo utilizzare Green screen e blue screen Perché il cielo è azzurro E quindi di conseguenza Gli andò ancora più di culo Perché era anche sereno Tra le altre cose Quindi fu un lavoro Meraviglioso E poi sullo sfondo C'erano questi Matte painting Straordinari E questo Fu Importantissimo Dal punto di vista Cinematografico Perché poi Si andrà a riprendere Per un sacco di altri film Che ovviamente Vedranno la scuola Che ha fatto Episodio 3 Quindi È straordinario Per lo meno Da quel punto di vista Molto più maturo A livello di effetti visivi Anche qua Vi ricordate la volta scorsa Che parlavamo Degli scontornamenti Che erano Un po' Tanto fanè Ecco nel terzo Ci sono Gli scontornamenti fanè Perché ci sono Perché la tecnologia Comunque si era evoluta Un attimino Ma era sempre quella Però un po' meno Un pochino meno Rispetto al 2 A livello visivo La vendita dei Sith È notevole Tutta la sequenza Iniziale Del combattimento Sopra Coruscant È tutt'oggi Enorme Bellissima Girata Benissimo A livello di regia Ma Robby Scusami se ti interrompo Anzi perdonami Ci sono delle scene In questo episodio 3 Che dal punto di vista Visivo Sono spettacolari Cioè anzi Prima Victor Giustamente per ridere Citava la scena Di loro innamorati Guarda la morte nera In questo terzo episodio Ci sono delle vere Prime grandi scene Maestose Che da un certo punto di vista Ricordano Quella maestosità Tipica della fantascienza Quella cruda A cui si ispirava All'inizio Perlomeno Guerre stellari Vi ricordate queste riprese Anche un pochino lente Sulla morte nera Di cui abbiamo parlato Nelle volte prima Che si vanno un po' a perdere Ecco qui le sostituisce Con queste grandi riprese C'è il punto Quando lui dice Ho portato pace Serenità e giustizia Nel mio nuovo impero C'è questa scena Dove lui è di tre quarti E dietro È bellissima Quella scena lì A livello di colorimetria È spettacolare O quando ci sono queste Già solo all'inizio Quando la telecamera scende C'è questa battaglia Che si vede Dall'alto E si sentono solo i tamburi È bellissimo Mamma mia È veramente meraviglioso Leggiamo anche le super chat Altrimenti non ce la caviamo Quest'oggi Abbiamo Davide Serinelli Che ci ricorda La battuta di C3PO Che è effettivamente emblematica Perché in questo film È inutile effettivamente Però l'hanno messo Perché è l'unico personaggio Assieme a R2 A comparire in tutti i film Esattamente Scusami se lo interrompo L'ultima cosa Poi sto zitto Lascio parlare agli altri Enrico Cipolletti dice Non sono disegni fondali Di Mustafar Sì Sono disegni E sono messi insieme Si chiama Matt Painting C'è una parte di disegno E una parte di pezzi In compositing Che sono stati fatti Se vedete I DVD extra Della trilogia prequel Lo spiegano Bene Anch'io l'ho visto all'Arcadia Non il primo giorno Credo fosse il mio secondo film Visto all'Arcadia In assoluto Il primo era la compagnia dell'anello Ah beh cazzo La vedi Quindi ricordo Grande trasporto emotivo Un po' per l'effetto Che fa l'Arcadia Le prime volte Io ricordo Che nella scena iniziale Tremavano le poltrone Quando c'è Lo scontro Su Coruscant E un po' perché comunque Io ero veramente appassionato Mi ero addentrato Anche nell'universo espanso La prima serie animata Della guerra dei cloni Adesso non è più canonica Quella in 2D Per intenderci Che comunque Aveva già presentato Grievous Quindi c'era già l'atmosfera Da fine di un'epoca A fine di un'era E quindi Sì Sarei bugiardo Se non dicessi Che il film Prima battuta Mi piacco E moltissimo Poi con il passare degli anni Francamente L'ho molto ridimensionato E come ho detto E come ho detto È sì Prequel Non che la battaglia Sia particolarmente Aspra Ma francamente Se dobbiamo parlare Di bel film Cominci un po' A storcere il naso Perché ha Gli stessi problemi Dei film precedenti Affievoliti Da un reparto tecnico Migliorato Almeno per quanto riguarda Le scene d'azione Perché le scene di dialoghi Sono sempre Statiche Recitati In maniera piatta Sono in piedi Sono sul divano Parlano 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 E quindi c'è sempre Questo senso di pesantezza E secondo me La scrittura Non è sto granché Anche per quanto riguarda Il passaggio A lato oscuro Di Anakin Non è proprio È frettoloso Ci sono Ecco Quello è il difetto Che io gli posso trovare Verso il finale È bellissimo Ma è frettoloso C'è una scena in particolare Iconica Ovviamente Quando lui Quando gli mettono la maschera Non so se ci fate caso Quando gli mettono la maschera Che c'è quella scena Del primo respiro Importantissimo Quando è la migliore È la migliore Del film È la migliore Però se ci fate caso C'è un errore lì Quale? È troppo corta Cioè Per avere Quell'effetto Noi lo vediamo Perché siamo Appassionatissimi E quindi Ne cogliamo L'importanza A prescindere Dalla durata Stessa Del respiro E soprattutto Del dopo Io parlo Del dopo respiro Doveva durare Un secondo in più Per essere perfetta Era bellissima Ma se fosse Dopo che ha fatto L'ultimo E gli lasciavano Un secondo in più Prima di staccare E passare all'altra scena Sarebbe stata perfetta Ma no Io non me la ricordo Secondo me è un po' È un po' veloce Poi ci sono questi dialoghi splendidi Veramente Si riconferma Lucas Un grande scrittore Di storie d'amore Non lo so Poi adesso entreremo Nel dettaglio Ci sono Sì Delle scene Memorabili Ma io credo Forse un discorso Del cacchio Perché comunque È un prequel Però molto spesso Quando si dice In che ordine Li guardi i film Io dico sempre 4, 5, 6 1, 2, 3 Perché la bellezza Del terzo film Secondo me Per almeno Il 70% È il sentore Di sapere Cosa accadrà Quindi ad esempio Il primo respiro Di Vader Tutto che si ricollega Alla fine Come film in sé Anche a livello emotivo Prima leggevo Di gente che Ha pianto Per l'ordine 66 Ragazzi È pochissima roba Se volete Ve lo dico già L'ordine 66 Escludiamo Dal discorso L'universo espanso Perché altrimenti Ce l'abbiamo sempre fatto Per tutti i film Non conta Giusto In quella scena Muoiono Personaggi Che non ci hanno Mai presentato Non hanno mai approfondito L'ordine G Di in tre film È composto Da questi monaci Rimbambiti Che non capiscono Che il cattivo Sia lì a due passi Da loro Che compiono Decisioni stupide Che trattano male I nostri protagonisti Non ce ne frega niente Di quell'ordine GDV Posso dirvelo? Ma sai cosa? Secondo me L'emotività Non è riguardo Quei personaggi Ma ciò che L'ordine 66 Sei rappresenta Perché tu sai Cioè a me Io sono quasi contento Che muoiono Ma chi sono Questi qui? No 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 dai Vedere 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 Io Salutarli Perché dovremmo essere Dispiaciuti Sono i buoni Perché dovremmo essere Dispiaciuti per loro Perché sono i buoni Ma no Perché comunque capisci Che lì Anche se Molti di questi Muoiono Non li ho mai visti Perché alcuni Non li ho mai visti Però Non piansi Però mi emozionò Cioè era Perché era la fine Dell'ordine Poi per l'amore del cielo Quello che dici tu È anche vero Però secondo me Cos'è che ti colpisce Cos'è che ti colpisce Della fine dell'ordine Che sai quello Che accadrà dopo Perché se noi Prendiamo l'ordine Nei tre figli Ma che muoiono tutti No no Io sono d'accordo con te Secondo me Tutte quelle puttanate Sul Lo guardi Prima lo guardi In ordine cronologico Secondo la storia Il macete e order Quelle cose lì Per me sono puttanate Queste saghe Anche se sono Se ci sono i prequel Vanno È come dire Guarda prima l'hobbit E poi i signorelli Ma siete pazzi No no infatti Ma più che altro E poi il grosso dispiacere Per ciò che rappresenta Cioè c'è la frase Che racchiude Diciamo Il tutto dispiacere di questa Anche se è recitata Dal mio punto di vista Un po' Col Seduar È così che muore La democrazia Sotto scroscianti applausi È quello il punto Che rappresenta Cioè la morte Dell'ordine dei geni È più che altro Oltre la cosa in sé Che muoiono dei bambini Che è nel senso Oltre tutto il resto Ma paradossalmente Più efficace È la scena in senato E comunque Muoiono i bambini Diciamo che quello È una cosa abbastanza istintiva Cioè non sei mica contento Però per quanto riguarda L'ordine 66 Boh Cioè voi siete sicuri Che in sé per sé Per quelli che sono i prequel Attenzione No no è vero Si è stata costruita bene Questa cosa Cioè ci dispiace Che muoiano Sti bacchettoni Saccenti Imbecilli Cioè ci dispiace Allora sul fatto Che non ne escano bene Cioè sul fatto Che molti gedi Non ne escano bene Siamo Ne siamo Siamo tutti d'accordo Cioè l'ordine gedi Ne esce comunque Male dal punto di vista Teorico Perché Sono comunque stati Dei babbioni Che avevano lì Capito Avevano lì tutto E non si sono accorti niente Oltre il fatto Che quello che si evince Però È che ci sono gedi E gedi Cioè ci sono i gedi Stracool Super sul pezzo Super crusty Però poi ci sono anche Già quando sono Quando è sulla nave Che poi diventerà la nave Di Leila Del senatore Organa Che c'è Obi-Wan Che dice Se ci sono degli sprovveduti Cadranno nella trappola Cioè questo già ci dice Che non è che tutti i gedi Sono Yoda Obi-Wan Perfino Mace Windu Mace Windu È accecato Dalla burocrazia È accecato Completamente Cioè lui non vede Oltre Oltre quello che Non capisce Io leggo Sì perché sono buoni Ma in episodio 1 Arriva l'unico gedi Forse veramente Un minimo Fedele alla linea Della trilogia prequel Che è quei gon Che gli dice Addistriamo il bambino No 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 È troppo grande Ma potrebbe essere il prescelto No 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 Poi dopo 20 minuti Pensano Ma forse è il caso Di addistrarlo Nell'attacco dei cloni Sono dei burattini Delle marionette Che decidono di entrare In una guerra Che non dovrebbe coinvolgerli E di usare dei cloni Come carne da macello Per Sono i buoni Gedi in questa trilogia Sono buoni Non è che sono i buoni Sono semplicemente Sono semplicemente La dimostrazione Di quello che dicevo Qualche 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 volta fa Cioè che episodio 6 È il punto d'arrivo Di tutta questa cosa E dopo non esiste Nient'altro Proprio perché Tutte le cose Anche le cose buone Come può essere L'ordine dei gedi A un certo punto Diventano Un impedimento Alla democrazia Diventano Perché quando tu sei Il motivo principale Per cui si scatena tutto È l'ennesimo no Quando Quando Anakin aveva ragione Perché Anakin Tecnicamente Ha denunciato Cioè è andato lì Ha detto Vengo io Se Mace Windu Gli avesse detto Vieni Forse c'era ancora Speranza Ma quell'ennesimo no In lui Ha fatto scattare Ok con questi qui Se non vai con il modulo Non c'è niente da fare Grande Coleman Trebor Grande Grandissimo Secondo me Questa trilogia Prequel Purtroppo Vive Troppo In maniera Estremamente Pesante Sul nome Cioè George Lucas Per me È stato Svogliatissimo E Purtroppo Molti fan I vecchi fan Non l'hanno mandato giù Completamente Perché avevano un immaginario Della saga Molto diversa Da quello che hanno visto I nuovi fan Si sono appassionati Si sono avvicinati Con questa saga Ma io sarei curioso Di sapere Quanti sono Quelli che si sono avvicinati Con questa saga Vorrei sapere Quanto hanno influito I nuovi fan Sul successo di Star Wars Di questi Star Wars Che anche in questo caso Sono andati calando George Lucas Si è seduto Sul suo brand Ha voluto fare Questo compito a casa Secondo me Dove La scrittura È quello che è L'abbiamo visto tutti Solo il fatto Di ogni film Avere un cattivo Darth Maul Conte Ducu E Grievous Cioè È veramente A me questo Forse anche per questo A me Episodio 3 Non mi ha lasciato Perché Avevo capito lo schema Era tutto Estremamente scontato Sapevo dove sarebbe Andato a parare E ci è andato Esattamente Come pensavo Che facessero Il combattimento finale Mi rifaccio Con qualche commento A me Non ha lasciato niente Perché Non ci ho visto Della verità Non ci ho visto Un fratello Due fratelli Che combattono Con una rabbia Realistica Ci ho visto Un balletto Coreografico Bellissimo Studiato divinamente Che però Mi ha dato la sensazione Di vedere Un balletto coreografico Studiato divino Sono d'accordissimo Secondo me Non ho percepito La rabbia Non l'ho percepita Ti dico addirittura Che secondo me Molto più viscerale Yoda contro Palpatine Cioè molto più Sì Mi è piaciuto molto di più L'ho percepita di più Anche perché Vedi Palpi Che è cattivo Con questo sorriso malvagio Che non ha Non gli interessa niente È un po' Quel Darth Maul Di Episodio 1 Cioè cattiveria Allo Stato Brado Con un obiettivo Ben preciso E Yoda Che è il più buono Degli Jedi Che soccombe Sapendo che deve soccombere Che non c'è più nulla da fare Quello mi ha fatto male Che ha mollato E poi comunque C'abbiamo Ian McDarmid Che fa Palpatine Che per quanto sia È un attore con la maiuscola E abbiamo uno Yoda Digitale Che per quanto sia Funziona bene Di là Abbiamo Tutta la parte drammatica L'abbiamo lasciata Nelle mani Complete Mani aperte Di Hayden Christensen Che ci crede da morire È bravissimo lui Ci mette l'anima Ma a me non è arrivato Quando urla Io farò Quei Io so Io non ci ho creduto Lì ho cominciato a mollare Ma è un discorso Ribadisco Io sono Io sono completamente d'accordo Ma ci saltano Saltano sui sassi Tipo Super Mario Ma qui dovrebbero Farsi la pelle Cioè dovrebbero essere Allora Allora Vogliamo parlare Vogliamo parlare Dei frisbee Giro a volte davanti No C'è un scenografico Allora Però c'è scritto Io invece vi dirò Vi dirò Cioè Come si dice Rispetto moltissimo La vostra sensazione Se non l'avevo sentito Mentre Io invece vi dico Che Io L'odio Di 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 Anakin Skywalker Che aveva dentro Invece io l'ho sentito Proprio tanto E vi dirò Ti fermo Dark Ti fermo L'odio Si vede E si sente Ma su cose basato Io non c'ho È basato sul fatto Che lui nasce schiavo Lui nasce schiavo Ritorna schiavo E E non è mai stato libero Cioè il suo odio È che lui vorrebbe Essere libero Ma non riesce Ad essere libero Ma il maestro Cioè Obi-Wan Che cazzo gli ha fatto È quello che rappresenta Scusami Prego Prego No La questione è quella Un po' è quello che rappresenta Anche perché ormai Lui Poi ok Avviene troppo in fretta E siamo d'accordo Però lui si è fatto Circuire da Palpatine Che dice Ogni singolo Jedi È un nemico della Repubblica Eccetera Poi Lui è convinto Che Obi-Wan In qualche modo Abbiamo messo Padme Contro di lui Sì ma tra l'altro Notate soltanto una cosa Ammazza i bambini Ultima cosa Notate una cosa Lui Lui in quel momento lì E secondo me È per questo Che è molto realistico Io lo apprezzo In modo particolare Però è personale Se ci fate caso Ci sono dei dettagli microscopici Quando arriva Padme Su Mustafa Ok C'è un momento In cui Lei gli dice Sì sì Anche Obi-Wan È da nostra parte Lui sa tutto Vuole stare Al tuo fianco C'è un momento Dove lui E lì si vede Che è la fragilità Di Anakin Skywalker Cioè Anakin Skywalker È un attimo Cioè se in quel momento Anche in quel momento Lasciate stare Cosa ha appena fatto Se in quel momento Obi-Wan fosse andato a lui Gli avesse fatto Pat Pat Gli avesse detto Ti capisco Io comunque sono con te Le cose sarebbero andate diverse Infatti subito Un attimo dopo Appena lui pensa Che lei lo abbia portato lì Con l'inganno Ricambia immediatamente opinione Perché in quel momento Lui fa un sorrisetto E dice Ah che bello Comunque Obi-Wan È dalla mia parte Poi ricambia automaticamente Ma nel giro di un secondo Allora Secondo me La conversione Al lato oscuro Di Anakin In questo film È fatta con i piedi L'unica cosa Che sono disposto Ad accettare E a livello drammaturgico Secondo me Appiattisce Completamente il tutto È che una volta Che passa al lato oscuro Lui è così potente Che Immediatamente Questo lato Lo invade E quindi è cattivo Tempo un secondo Il momento in cui si è in ginocchio È cattivo Altrimenti per me Mi fa piacere Che ci siano delle finezze Per me non regge niente Allora Per quanto Per quanto Quest'uomo Possa essere Arrabbiato con i Jedi È comunque Cresciuto con loro Cioè lui Tutta la vita L'ha passata con loro Immagina Abbia intrapreso Dei rapporti di amicizia Con quest'ordine Nonostante tutto Sono stati Compagni di battaglia Obi-Wan È stato il suo mentore E unico amico Per molto tempo Nel giro di un pomeriggio Truci dai bambini Della scuola Cioè ripeto L'unica spiegazione È che quando Il lato oscuro Lo pervade È andato di testa È l'unica Infatti l'hanno poi Portata più avanti Nell'universo espanso Nel Chiamiamolo l'universo espanso Ma in realtà Non è Nel libro Nei fumetti Dove hanno fatto capire Questa dualità Tra Darth Vader E Anakin Arriva Fa tutto per Padme Tutto per Padme La strangola lui Che per carità Vi dirò anche questa cosa Il fatto che ci sia La profezia Che si autoavvera Cioè la visione Che lui ha Si realizzerà Proprio perché lui Cerca di fare qualcosa Se lui non avesse fatto niente Probabilmente Sarebbe andato tutto In maniera perfettamente lineare Ma perché Quella è proprio La dinamicità del male Quando tu vai Quello che mi piace Però Fa tutto per salvarla Ti strangolo Ragazzi È un pazzo scriteriato Ora Può andare benissimo Cioè a livello mitologico Probabilmente Il lato oscuro Funziona così Posso dire che però A livello drammaturgico È poca roba Cioè non si capisce bene Ma in realtà sai che Nii A un certo punto C'è il triangolo no Con Obi-Wan Sai perché? Perché lui Lui È La classica persona Perché tutto sommato Adesso giustamente Riderete Non l'ha uccisa Infatti voleva darle un buffetto Strangolandola con la forza Ma non è quello Quella è la staticità Io prima ho sbagliato Ho detto la dinamicità del male In realtà ho sbagliato Quella è la staticità del male Adesso riderete Paradossalmente Lui è un orfano Adesso riderete Perché è un orfano Ma riderete Paradossalmente Paradossalmente Lui ha idealizzato La figura della madre Per Darth Vader Per Anakin Skywalker La presenza femminile Amorevole Nella sua vita Cioè quello È l'amore più puro Che lui conosca Lui poi Ha trasferito In amore passionale Che poi Diventa Sarebbe diventato Amore familiare Questo affetto Su Padme C'è stato un transfer Proprio così Allora a quel punto Lui Non capisce più niente Quando lui Quando lui C'è la scena Che lui strangola Lei Quella è la staticità Del male Perché lui È talmente tanto Preso d'odio Non vi è mai capitato Quando siete Veramente Ma veramente Fuori di voi stessi Che passa Una persona Che non c'entra niente Può essere Vostra sorella Vostra compagna Vostro fratello Che voi arrivate E dite Vaffanculo Anche tu E non c'entra niente Secondo me Quello che dici tu È vero Io non Critico In realtà Le sue motivazioni Le comprendo Anche Ma secondo me Il problema È di George Lucas Che l'ha raccontato In maniera In fretta Sicuramente Non dico banale Ma ha dato per scontati Molti dettagli Che secondo me Non dovevano essere così Superficiali Mi viene in mente Joker Cioè Joker È un film intero Basato su una crescita Di un personaggio E per quel che mi riguarda In quel film Io ho vissuto Il suo passaggio Talmente A livello empatico Che alla fine Faccio fatica Anche a vederlo Come cattivo Hai ragione Il soggettivo Secondo me Doveva essere quello Cioè alla fine Tu dovevi Io non patteggiavo Per Anakin Dicevo Ma questo è un cretino Cioè Invece Ho voluto Trovarmi in difficoltà E dire Cazzo Sono dalla parte Di Obi-Wan O dalla parte Di Anakin È comprensibile Il tuo punto di vista È comprensibile Sì 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 Ma è comprensibile Che la ciliegine sulla torta Quello che mi ha fatto proprio Non dico sbroccare Perché non ho sbroccato Per sto film Semplicemente Vabbè dai Ma aspettavo peggio Però avrei voluto Uscire esaltato È Padme Non ha più voglia di vivere E no cazzo Dimmi che gli ha rotto il collo Io mi devi dire Che gli ha rotto il collo Dal nervoso Me lo racconti meglio Che cazzo c'entra Padme Non ha più voglia di vivere Sai cos'è Sai cos'è Che sono Tutte emozioni vere Che nella realtà Esistono Il problema È che come giustamente Avete detto voi E io sono d'accordo Su questa cosa È stato raccontato in fretta Perché l'amore È quello Struggente L'amore è ossessione È quello Quello Enorme Che loro dovrebbero avere Viene raccontato Che poi è la cosa Che dicevamo anche Settimana scorsa Nel episodio 2 Non viene Non viene percepito Cioè noi capiamo Che c'è l'amore Ma non lo sentiamo Secondo me è quello Se ci fosse stato quello Magari Ma non c'è neanche Quella spinta emotiva Allora Lui passa al lato oscuro Per salvare lei La prima cosa Che gli chiede l'imperatore Vai ad ammazzare i bambini Scusi ma io vorrei curare Vai ad ammazzare i bambini E questo vale Poi Ok Adesso parliamo Di quella Devi andare ad ammazzare I leader dei separatisti Sì però Sì però Io volevo sapere Questa qui tra poco Partorisce Va ad ammazzare i leader C'è un rincoglionito Anche Ripeto Si spiega se Mi volete dire Che una volta passato Al lato oscuro E va bene Però ha raccontato Ma logicamente È un po' Una cacchettina Però Posso dirlo Ma infatti il problema È quello Della velocità E della Brava Poi vi lascio parlare Prima leggevi in chat E ma per forza Lui la strangola Lei non vuole stare con lui Appena ucciso Di bambini Cioè ma che cazzo Cosa si aspettava Sto qui Cosa si aspettava Che questo Si tratta È una trilogia scritta In maniera Completamente svogliata Sì assolutamente Siccome io tra poco Devo andare Voglio solo dire Due cose Perché ho sempre Quella cosa strana Del lavoro I bambini L'hanno presso I bambini L'hanno presso Cioè prima cosa Che fa Dai ragazzi No però Però c'è anche Ci sono due problemi qua Allora innanzitutto La cosa che lui Fa il gallopino Dell'imperatore Va a ammazzare i bambini E vabbè E dici Ok Ma soprattutto Io Allora la cosa La cosa di lui Che dice che Che lei non aveva più Voglia di vivere Secondo me è ancora più efficace Che se lui Adessi rotto il collo Perché è molto più subdolo Che lui viva Per decenni Per trent'anni Convinto di averlo uccisa E non è vero Secondo me La vera punizione È quella Che lui si è convinto Di aver fatto qualcosa Che in realtà non ha fatto Però è un lato oscuro Anche lì Sì Però non la devi spiegare bene Quello sia Ti sono nati due bambini E non hai voglia di vivere Ma vaffanculo A me però Però vaffanculo No sono d'accordo però Amori spronza Però aspetta No altra cosa Io dico Io dico Nel momento in cui L'imperatore dice Purtroppo sembra Che tu l'abbia uccisa Invece di dire No Poterà dire Bene Però lei Ha detto di sapere Come si riporta In vite morti No? Ma gli aveva appena detto No Gli aveva appena detto Che il segreto Di riportare la vita A soltanto uno Ma se uniamo le forze Uniamo le forze Appunto Poterà dire È morta Ma guarda Che riusciamo a farla rivivere Ah ok E no Perché devono proprio Prima lui Gli fa credere Di sapere Qual è il segreto Per E poi invece Gli dice Tiè Dobbiamo Dobbiamo scoprirlo Sperando che questo È pieno d'odio È passato al lato oscuro Vedere C'era la donna Che amava Che oh Gli ha detto Guarda che forse Un problemino Quello che hai fatto a Coruscant Muori stronza Il maestro Che l'ha fatto convertire Che gli aveva promesso La rave e la fava Non si incazza con lui? No Sì Ma non si Si vede nel film Allora Vedete col rimbambito Anche Sono tutti rimbambiti In questa saga In questo In questo contesto In questo contesto È molto più credibile Anakin Di episodio 2 Quando va a far fuori Tusken Lì si incasta Veramente È lì È molto più Cioè Io l'ho vissuto Molto peggio lì Che dove lui Lui perde proprio il senno E me lo racconti In cui In un modo In cui veramente Perdi il senno Vedo che sbrocca Infatti lo uccide In episodio 6 Minchia ce n'ha messo Però 20 anni Comunque ragazzi Io purtroppo devo andare Perché ho una chiamata di lavoro Quindi vi saluto Ciao Ciao ragazzi In episodio 6 Lo uccide per salvare il figlio Non perché questo Non gli abbia resuscitato Padme Perché all'epoca Lucas Non ci pensava neanche a Padme Non sapeva neanche Chi diamine fosse Visto che in episodio 6 Lei addirittura Se la ricordava Sì L'ha vista a mezzo secondo Quando era un bebè Ragazzi dai Comunque la questione appunto E il problema è la velocità E la generale stupidità Dei personaggi Ma in realtà Poi Vabbè E' vero anche che io Le cose le vedo Con la lente Perché hanno migliorato tutto Poi Hanno approfondito tutto Allora sì che diventa interessante Paradossalmente L'ho detto a Giovanni In settimana Il romanzo di episodio 3 La novellizzazione E' molto più efficace del film Molto più efficace Sì sì Infatti E' quello che Come dicevamo Il E' quell'effetto Che viene chiamato Effetto Stover Perché l'autore appunto Si chiama Matthew Stover Cioè Quello Per cui Un romanzo Di un film Prende il film E Lo Arricchisce Diciamo Approfondendo Quelle che sono Le emozioni Dei personaggi Tratteggiando bene Quelle che sono Le emozioni Dei personaggi Poi Si Questi film In generale Si svolgono Troppo in fretta Sempre Nel senso che Episodio 3 E' quello che si svolge Nell'arco di tempo Più lungo Tra l'altro Della trilogia E penso Basti questo Insomma Si svolge Nell'arco I 10 giorni Gli altri 6 o 7 Però ecco In 10 giorni Non è comunque Credibile Che un personaggio Dal nulla Passi al lato oscuro Diventi Cattivissimo Eccetera Se Fosse stata Poi ok La serie The Clone Wars Fumetti Eccetera Hanno Migliorato La questione Perché vedi che Comunque Questa caduta Che Si era solamente Intravista In episodio 2 Con Lo sterminio Dei Subbipodi Si vede che Questa caduta Appunto E' stata coltivata Da Palpatine Nel corso degli anni Qui ok Vedi solo che Palpatine È diventato Super amico Di Anakin E già però Quello ti dovrebbe far Scattare il campanello Dall'arne No Gli è dato super amico Perché lo sta traviando E infatti Gli instilla Sfiducia Nell'ordine Jedi Però Forse Qualcosa di Una cosa più furba Sarebbe Sarebbe potuta essere Spalmare il film Nell'arco di Mesi Anche perché Ecco c'è qua un commento Dice in dieci giorni Padme porta a termine Una gravidanza Senza che nemmeno Si noti il pancione In realtà Sono i vestiti Che non lo fanno notare Perché lei ha usato Sempre lo stesso Come si può dire Lo stesso Esatto Sì la stessa protesi Ha usato sempre la stessa Solo che i vestiti Sono stati cambiati In modo tale Da farlo sembrare Più evidente Verso la fine Comunque sicuramente Se il film Si fosse dipanato Su un arco di tempo Più lungo Anche solo Qualche settimana Qualche mese Probabilmente Sarebbe stato tutto Più credibile Quello sì Magari vedere la gravidanza Cioè la scoperta Della gravidanza All'inizio E vedere anche L'evoluzione Di questa gravidanza Per il resto Scusa Roby A me comunque Anche Pur essendo molto rapido Devo dire Che mi emoziona Parecchio Sia la scena Dell'ordine 66 Perché proprio Vedi il crollo Di questo Ok La Repubblica È decadente L'ordine È già di decadente Ma vedi proprio Il crollo Di tutto ciò Che è buono E Sai che arriva L'impero Arriva tutto Tutto lo schifo Che ci sarà dopo Questo tradimento Di cloni Nei film Ma chi se ne frega Ce li hanno mai caratterizzati Avete mai visto Caratterizzato il rapporto Tra G di cloni Nei film Sì ma Secondo me Un secondo prima È un po' come Dice di In realtà Provo a mettermi Nei panni di Lucas Cercando di Capire anche Tutto il progetto Che adesso Con quello che dice Giovanni Secondo me Quello che è sbagliato Probabilmente Non è tanto Ma come Il film La scrittura No Ma il film Non serve Ma cosa state dicendo Nel film non serve Ma cosa vuol dire Cioè ma ragazzi 4, 5, 6 Raccontano una storia Coerente e unitaria L'universo espanso È un di più Che espande Quando per capire un film Devi andarti a leggere I libri I fumetti C'è qualcosa che non va Mi dispiace È lo stesso discorso Che faremo poi Tra l'altro Per 7, 8, 9 C'è qualcosa che non va È proprio il discorso Che volevo fare Esattamente quello Cioè probabilmente Lui quando ha fatto I primi tre film Ha fatto tre film Punto L'obiettivo principale Era creare una nuova mitologia Una nuova saga Ci è riuscito in pieno Ha avuto un enorme successo Lo step successivo Per lui Probabilmente Era aprire un mondo Per cui tre film Che dessero il via Ha diversi progetti Si sa No Si sa Expanded universe Fumetti Libri Cartoni animati Videogiocchi Tutto quello che c'era Per cui lui ha compresso Un po' tutto Dando un po' Una sorta di traccia Se vogliamo Di storia Dando per scontato Tante cose Che poi sarebbero state approfondite Solo che in un contesto cinematografico Secondo me Non dico che abbia Sovravalutato il pubblico Ma forse L'ha sottovalutato Perché se io vado al cinema Non è detto che io Voglia mettere A leggermi Dei libri Di una saga Cioè diventa un lavoro Per cui Il progetto ideale Qual è? Tu fai tre film Fatti come si deve E poi fai L'universo espanso Come diceva Matioschi Cioè devi lasciare La libertà agli altri Di approfondire Non puoi permettere Al pubblico Di andare al cinema A vedersi un film E il risultato qual è? Secchiamo tutta questa cosa Della mitologia Della passione Della forza Guardiamo il risultato Dal botteghino In calare Dal primo Sono andati giù Perché il pubblico comune Ha visto dei film Ha detto che cagata è sta roba Non ci ho capito niente E non vado a vedere il secondo Questo non va bene Questo non va bene Il Marvel Cinematic Universe Con tutti gli difetti che ha Va bene Perché il botteghino Va in crescita E ricordiamoci Che non mi dite Il botteghino Non serve a niente Il botteghino è tutto Se un film funziona Se un film funziona Il botteghino E cresce Vuol dire che il progetto È funzionale E il Marvel Cinematic Universe Ha un expanded universe Immenso Al cinema Adesso lo sta ampliando Anche in tv Per cui Quello era un progetto George Lucas Secondo me In questo senso Era molto avanti Ma ha gestito male Questo tipo di progetto Un piccolo particolare Fondamentale Parliamo Della storia Della caduta Di uno Del villain Più iconico Della storia del cinema Nel momento In cui lui Diventa Darth Vader Un'inquadratura Rise Vader E lui si alza Ma lì devi Dargli dieci minuti Di sguardi Di pensieri Di primi piani Di sudore È quello che dicevo io prima Se ti ricordi più Ti ricordi quando io Ti ho detto che Un secondo in più Avrebbe reso la scena perfetta Intendevo proprio quello Ci dicono che Episodio 3 Ha incassato di più Del 2 Ma ha incassato Di più del primo Per forza In che stato Penso meno Della minaccia fantasma Però Sono anche valutazioni Un po' difficili Nel senso La minaccia fantasma Era il primo Dopo 16 anni Episodio 3 C'era la nascita di Vader Avremmo visto Vader No perché poi Entrano in gioco Questioni di principio Parlare solo dei film È come fare la storia Dell'umanità Con solo la Bibbia Mi spiace Il cinema Parla di film Mi spiace Mi spiace Intanto io volevo Salutare R.T. Poop Perché ogni tanto Lo guardo Mi faccio interviene Anche perché Questo Bisognerebbe fare Un discorso Veramente ampio Ampio Il successo Dei film Viene decretato Dal pubblico Generalista Non dagli appassionati Tu non puoi Pretendere Che per capire Un film Ci sia gente Che devi impiegare Il proprio tempo Per leggere romanzi Leggere fumetti Guardare serie animate Questo è una passione Questa è una grande passione Non puoi pretendere Che tutti Debano essere appassionati E non puoi pretendere Che debba esserci Per forza bisogno Di quella passione Per apprezzare un film Perché Visto che è entrato in gioco L'MCU Che mi rendo conto Si è un discorso complicato Mia madre Guarda quei film Senza sapere La rave e la fava Dei fumetti E addirittura Li guarda in ordine Scombinato Non ne ha guardati alcuni Eppure si è vista Endgame Ragazzi È il pubblico generalista Che deve andare a colpire Non l'appassionato Perché l'appassionato E purtroppo Anche Recenti sviluppi L'hanno dimostrato Ma non voglio generalizzare Io mi riferisco A una branca Proprio specifica Che quasi vede Star Wars Come una religione Assorbe tutto Accoglie tutto A 90 Mentre il pubblico generalista Se magari comincia A toppare Poi non te lo guarda più Il film successivo Quindi Quindi smettiamola di dire Che per apprezzare Star Wars Bisogna leggere tutto L'elitarismo È la morte di un brand L'elitarismo È la morte di un franchise È la morte Continuiamo così A pretendere Che per capire una roba Bisogna leggere 70 fumetti Poi vediamo Dove va a finire Star Wars No no Sono d'accordo Per piacere Per piacere Posso dire una cosa In merito Visto che Sì Diciamo Sono tra virgolette Chiamate in causa Allora In realtà Questo discorso Penso sia più Poi sensato Farlo Per la trilogia sequel Ah assolutamente ragione Perché in realtà Per episodio 3 Io sono abbastanza convinto Che Lucas Non avesse pensato Minimamente A Come dire A un film Che fosse Come dire Carente No in alcune parti Perché poi Queste Queste parti Dovessero essere Appunto Approfondite Con altri Si è disattivato Il microfono Giovanni No no Ora sei mutato Su Streamyard Sì sì Non ti si sente proprio No ma Non l'ho mutato io Si è proprio disattivato Allora Mi ho staccato il filo Niente Dicevo Appunto Lucas non ha concepito Sicuramente Episodio 3 Come qualcosa di Carente Perché poi Venisse approfondito In parte Non è poi neanche così Per la trilogia sequel Solo in parte È così Secondo me Un grosso problema Dell'universo Degli universi espansi Degli universi espansi In generale Secondo me E il fatto che C'è una differenza Tra raccontare Delle storie Che possono essere Approfondite In altri modi Se si vuole O raccontare Delle storie Che devono Essere approfondite Per l'episodio 9 Cioè Il romanzo Racconta una storia Completamente diversa Da quella che racconta Il film E allora Quello non mi va più bene Neanche Neanche a me Perché vado Al cinema Poi io Tanto il libro Me lo compro lo stesso Che racconti di più Di meno O uguale Lo compro lo stesso Però Mi sento poi preso Per il culo Se vado al cinema E vedo Cose No Guarda Mi sono sentito Preso per il culo Io che non ho Comprato un libro Figurati tu Vedo cose che mancano Per se non vince Non vince nessuno Le ultime quattro puntate Corus E vederlo tutto insieme C'è anche qualche pazzo Do the clone wars Ti fa male Sì Esatto Esatto Comunque Ogni tanto Ci sono problemi Dove visto Anakin Legare con Sì lo so Dove sono qui Ogni tanto vai Guardiere Vedete Sì sì ti vediamo Sì Vedere Anakin Che passa al lato scuro Nel film Lo vedi nel film Adesso pensi a Sokka Il rapporto che aveva con lei A quando si lasciano Per cui adesso Te lo godi Molto di più Molto di più Pensa solo A quanto ha influito Ad esempio L'espulsione di Sokka E quindi È anche difficile Togliere tutto questo Dal tavolo Per concentrarsi sul film Io me ne rendo conto Però secondo me È un esperimento interessante Vi dico altre cose Che non mi sono mai piaciute Obi-Wan Non fa una grandissima figura In questo film Lascia bruciare vivo Quello che fino a tre ore prima Era il suo allievo Va bene che è passato Al lato scuro Però lì fa due pirlate Al prezzo di una Lo lascia vivo E non gli dà il colpo di grazia Pietoso Cioè se lui lì Avesse agito umanamente E avesse detto Va bene Mi hai tradito Hai fatto fuori l'ordine Però fino all'altro ieri Eravamo amici E non ti lascio bruciare Vivo come uno stronzo Ma t'ammazzo Niente Darth Vader Cioè Obi-Wan subisce Lo stesso trattamento Che subisce Anakin Per quello dico Che è la colpa No diamo la colpa Ma non mi piace neanche definirlo di colpa È George Lucas Che ha sbagliato Perché anche Obi-Wan È tutto come dici tu Cioè non esiste Se una cosa la vuoi Te la vai a prendere Se credi che Te la vai a prendere Io non ho Per esempio una delle cose Della trilogia prequel Che non dico che non ho mandato giù È brutto dirlo Perché non è vero Io sono un fan Per cui mi è piaciuta Ma delle tante incongruenze È che io Alle Guinness Per me è Obi-Wan Kenobi Quando vedo Evan McGregor Non riconosco lo stesso personaggio Cioè ci vedo due caratteri Molto differenti È vero che Evan McGregor Ha fatto un giovane Obi-Wan Kenobi Che col suo essere Eremita su Tatooine Sicuramente è cambiato Ed è per questo Che sto aspettando La serie su Obi-Wan In maniera totale Perché spero Che l'ho scritto In modo Che ci possa trasformare L'Obi-Wan Della prequel Con l'Obi-Wan Ma sai cos'è anche il fatto Che giustamente Certo Umanamente Come si dice Sarebbe stato meglio Dagli il colpo di grazia Però ricordiamoci Che anche lì È la prima volta Che Obi-Wan Si mette Tra virgolette Nei panni Cioè Di Anakin Skywalker Cioè deve fare una cosa Ma non è convinto Al cento per cento Di quello che sta facendo Perché umanamente Non ce la fa Arrivo subito al punto È l'unico punto In cui paradossalmente I ruoli si invertono Dove Obi-Wan Deve appunto Fare una cosa Che non è Non è convinto Di fare Quindi si Lo lascia lì È convinto Ma lui non ce la fa A dargli il colpo finale È quello il punto Non ce la fa E non è umano È peggio Non dargli il colpo finale Siamo tutti d'accordo Però lui non ce la fa A farla Però farà Farà ciò che deve fare Il Vattilo dice Farò ciò che devo Non ciò che voglio Sì ma Anche qui Però ci rendiamo conto Che vedere esiste Perché Obi-Wan È stato uno stronzo Cioè ripeto Questa trilogia prequel Distrugge tutti Tutti Sono tutti Dei minchioni I Jedi erano Un ordine Di bacchettoni Terribili Che per fortuna Che sono morti Quasi Obi-Wan Ah il mio apprendista Questo sta bruciandoli Vivo No Però ti rubo la spada Perché c'è anche Questa freddezza Cioè non è che Spinto dall'emotività Non vuole guardare Scappa Va lì Gli ruba la spada E lo lascia lì Ma poi ne vogliamo dire una Dovete tifare per me E se ne va Ragazzi Ne vogliamo dire una Ma visto che Ok Yoda va ad affrontare L'imperatore Obi-Wan va ad affrontare Anakin Non bastava che entrambi Andassero prima da Anakin Lo facessero fuori Poi andassero dall'imperatore Tra l'altro Mi mandano in giro Dispersi È un patchwork Incredibile Per arrivare alla trilogia Classica Ed si chiede in maniera Troppo Troppo plateale È troppo plateale Per quello Io dico svogliato Per quello Io quando leggo Star Wars Deve tornare nelle mani Di George Lucas Mi vengono i brividi Mi vengono i brividi No Non deve tornare Su di lui Lui deve fare da supervisore Ma Secondo me Ribadisco La trilogia Soggettista Sì Sì Aveva troppo Troppo potere Aveva Si vede che È un prodotto Commerciale Per spingere Sull'atto Commerciale Del prodotto Il problema è quello Era cercato Dal lato oscuro Più che altro Penso che siamo Tutti d'accordo Sono fatti dire Perché io Ripeto A me Episodio 3 È piaciuto tantissimo Veramente È piaciuto tantissimo Sono però Rimango La critica principale Che io gli rivolgo E penso che siamo Tutti d'accordo Su questo È la fretta Perché secondo me La stessa cosa Raccontata Infatti Lo stesso motivo Per il quale Nella volta scorsa Dicevamo che Episodio 1 Non doveva esistere Cioè se si fosse partiti Da Episodio 2 Si fossero raccontati Gli eventi Che vanno da Episodio 2 Alla fine di Episodio 3 Però in tre film Allora forse avremmo avuto Ancora di più Di quello che abbiamo avuto Perché ogni scena Sarebbe stata raccontata Nelle mani di Favro e Filoni Anche lì non vedo l'ora Neanche Se la vendetta dei Sith Fosse stata una trilogia Sarebbe stato ipocale Orca boy Bello Bellissima quest'idea Bellissima Aggiungo altre cosettine Veramente graziose Compresa una che ho notato Solo ieri sera Per la prima volta Un altro errore Dei Jedi Che vabbè Non abbiamo capito È prendere Anakin E dirli Ma perché non lavori Per noi come spia Noi ti mandiamo da Palpatine E ci dici tutto quello che fa Passano un po' di scene E scopriamo che Nell'ufficio di Palpatine È montata una telecamera Che registra tutto E quelle registrazioni Possono essere viste Dai Jedi Tant'è vero che Obi-Wan Vede tramite Ologramma Anakin che si inchina Davanti a Palpatine Che cazzo Doveva spiare Anakin Prego Su questo Oltretutto C'è lì la telecamera Nell'ufficio Questo Non l'hanno mai visto Che si metteva al cappuccio Non l'hanno mai visto Che era lì In crescita Ma l'hanno mai visto Dubbio però Perché le registrazioni Che vedono Obi-Wan E Yoda Sono registrazioni Del Tempio Dopo che i Jedi Del Tempio Sono stati Sterminati Quindi probabilmente Come? Il Tempio Degli Jedi però Giusto? Ma Palpatine Non ha l'ufficio Nel Tempio Esatto Perché infatti La registrazione Che vedono È Palpatine Che dice Hai fatto quello Che dovevi fare Ora porta la pace Nell'impero Che è una frase Che non ha detto prima Ma no Dice una cosa diversa Ma lì è lui Che si inchina Ma è dopo E dopo aver sterminato I Jedi Sì Dopo aver sterminato I Jedi Del Tempio Ma per fortuna Allora Per fortuna E dopo E dopo E dopo Sono più contento Così No no Ma ci sta Ma guarda che Anch'io tu Hai detto una cosa Che anche io La prima volta Al cinema Che vedi questa cosa Ho pensato Questa cosa qua Effettivamente Ho detto Ma come C'era la telecamera Lì invece Era un'altra scena Palpatine Che va al Tempio Sì però C'è anche lì Un problema Perché adesso Potrei sbagliarmi Potrei Prendono La registrazione La fanno vedere Al Senato Ci siamo sempre lì Comunque Comunque C'è una minchiata Francamente C'è un altro problema Ma potrei sbagliarmi Adesso Perché Quando ha Sterminato I I Jedi Non Non vede Palpatine Tramite Ologramma Che gli dice Vai su Mustafar E elimina i capi Dei separatisti Penso di sì Cioè mi pare Che capiti così E poi però Vediamo Nelle registrazioni Del Tempio Vediamo Che si dicono Cose diverse E che sembrano Nella stessa stanza C'è lì qualcosa Che non quadra Allora c'era qualcosa Che ho pensato Boh Sì C'è qualcosa Che non torna Perché Le frasi Che dicono Non sono identiche E appunto Dalla registrazione Sembrano Che siano Nella stessa stanza E invece Però adesso magari Mi ricordo male Aspettate un secondo State in silenzio Un secondo Hai agito bene Mio nuovo apprendista Adesso Lord Fener Va e porta la pace Nell'impero Stop Dice questo Nelle registrazioni Sì Dice questo Eh Però Prima Ce l'avevo aperto qui Eh sì Però prima Credo Quando Quando Appunto Anakin Ha finito Non gli dice Ah no Il sistema di Mustafari Lo dice a voce Lo dice a voce prima Che si inchina Due o tre volte Nel corso del film Torna tutto L'unica cosa Che non torna È che Non sono sicuro Che tutti i Jedi Siano stati sterminati Però mi faccio vedere Al tempio Così Sono certo Che questi file Non possano essere diffusi Comunque c'è qualcosa Che non mi torna Devo rivederlo Perché C'è No C'è C'è almeno un incontro Che non si vede Scusate Un incontro Che non si vede Meglio così Meglio così Pensavo che fosse Il primo inchino Invece il secondo No Non è il primo Non toglie che Potevano chiedere A Palpatine Un bel esamino Del sangue Sono tipo Le registrazioni Dello sword Dice qualcuno Ah esatto Tra l'altro Prima stavamo parlando Di quanto il problema Sia stata la fretta E tutto quanto E ricordiamoci Che i primi tre film Sono usciti A tre anni di distanza L'uno dall'altro Ricordiamoci Questa cosa Quando invece Poi è arrivato Capite È arrivata la nuova dirigenza Sono arrivati Gli yuppies Del cinema Così Ricordiamoci Che ne usciva Uno all'anno Ora Io vorrei chiedere Sì ogni due anni Però in realtà Poi 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 Ci parleremo dopo Di quella Ne parleremo poi Ecco Io ho letto Si fa vedere Incappucciato Anche in senato Infatti anche Quella scena assurda La tolleri Solo perché il senato Ti hanno detto Che anche lì Sono tutti rimbambiti In sti film Il senato La manica di rimbambiti Perché questo arriva Sì Da adesso sarò Non sono cattivo io Sono tutto sfigurato C'ho il mantello scuro Però i Jedi Sono quelli cattivi E li abbiamo uccisi tutti Senza manco dirvelo Ecco Vogliamo fare però Una Altro Altro dettaglino Diventa Imperatore Anche grazie a Jar Jar Binks Sì Sicuramente Lui è quello In forma proposta Quello in realtà Lo apprezzo L'apprezzo Come scelta E ti spiego anche perché Perché io Mi son detto La prima volta Che ho visto Diciamo appunto Un po' In modo maturo Diciamo Episodio 2 Mi son detto Vabbè dai Ma un senatore Come Jar Jar Binks Non può esistere Poi invece Basta guardare Adesso Eh però No 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 Ma assolutamente Guarda Io sono d'accordo Con te No e anzi Dico Dico una cosa Dico una cosa Adesso Mi prendo io La responsabilità Di quello che sto per dire Al male In generale Serve sempre E il male Si serve Dell'imbecille Senza l'imbecille Il male Non può mai Trionfare Però Che sia uno solo Che sia una categoria Di persone Per fare Trionfare il male Non puoi prendere una saga E rendere tutti imbecilli Però perché altrimenti Non ha senso Non c'è senso drammaturgico Ma sai che in realtà Paradossalmente Niente da contrastarlo Cioè Paradossale Allora io adesso Non voglio dire Non voglio dire una cosa Non voglio dire quella parola lì Perché sennò poi diventa un casino Diventa un casino per la live Basta vedere Basta vedere L'imbecillità Che c'è intorno alla situazione Che stiamo vivendo in questo momento Fine Non dico nient'altro La narrazione Cioè le regole della narrazione Non sono quelle della vita reale Vero Un contrasto emotivo Narrativo Vero Sai qual era Questa è tutta un'altra discussione Il fatto che Chi ha tentato la mia vita Mi ha lasciato sfigurato E deforme Cioè Allora Anche la scenà lì Dei fulmini Cioè lui diventa così Per colpa dei fulmini Oppure i fulmini Rivelano il suo vero aspetto Perché comunque In episodio 6 Non era sfigurato Era un vecchio di merda Sì Diciamo la verità No Era sfigurato Se lo guardi Era sfigurato No Era un vecchio Brutto e macilento Non era Che macilento Dai C'è le guanciotte Dai cos'è Secondo me la spiegazione È molto semplice L'imperatore Doveva essere un alieno Perché tanto che Era una scimmia Metà una vecchia Per cui doveva essere un alieno E poi è diventata L'incarnazione del male Mantello scuro Cappuccio scuro Faccia deturpata E il problema Della prequel trilogia È che tutto succede Perché deve esserci Nella trilogia classica Per cui Come è fatto a diventare così Combatte con i fulmini Lo facciamo sfigurare Gli hanno fatto un pattern Perfettamente simmetrico Posso dire che quel make-up Fa schifo Cioè grandi effetti Ma quel make-up Fa schifo Si Si vede che Fa Però ci sono due risposte Per questa domanda Prego C'è la risposta Che c'era nel romanzo Darth Plagueis Appunto Che però Non è più canonico In Quella In quel romanzo Veniva detto Super giù Che Praticamente L'utilizzo Del lato scuro E in particolare Dei fulmini Che sono un potere Che si può acquisire Solo quando Solo quando ti Proprio addentri No Particolarmente Nel lato scuro Ti lasciano deturpare Anche qui Perdonami se ti interrompo Perdonami se ti interrompo Tieni il pensiero E anche qui Infatti Se notate Darth Fener Non ha mai Usato i fulmini Perché non è mai Entrato appieno Nel lato scuro Si poi c'è da dire Che non so se una macchina Possa usare I fulmini Senza fulminarsi Però È vero In episodio 6 Era un potere Solo di Palpatine Qui si sono inventati Che tutti si Possono farlo Scusami Scusami Giovanni Prego E questa Era la spiegazione Che c'era in Darth Plagueis Che è però Romanzo Legends Ora Nel canone Una spiegazione L'ho trovata Solamente Nel In una guida Che si intitola Star Wars Tutto quello Che non sai Adesso non ricordo più Se nell'edizione Nella prima O in quella Giornata Perché poi hanno fatto Due tre edizioni Diverse Di questa guida Comunque viene detto Che i fulmini Mostrano il suo Vero io Cioè Il suo vero Aspetto Diciamo così Però anche lì È da interpretare Il suo vero aspetto Perché lui era così Probabilmente Sempre perché Addentrandosi Nel lato oscuro Un po' come Nei romanzi di Harry Potter Che Voldemort Vediamo che dopo Qualche anno È sfigurato Eccetera Sfigurato Probabilmente È una cosa simile Non è mai stata Ben spiegata Non è mai stata Ben spiegata Però c'è anche Una teoria Bellissima Secondo me Bellissima Perché almeno Dà un senso Episodio 9 Che dice Che dice che I fulmini Possono essere Vengono potenziati Diciamo Al contatto Con la spada laser Quindi se ti torna indietro Ti sfigura Se ti torna indietro Il fulmine è super potente Con due spade laser Incrociate Esplodi Ma sai cos'è Perché Mace Windu Perché comunque Mace Windu Non è sufficientemente potente È molto potente Quindi non è in grado Come Yoda Di assorbire Addirittura Questi fulmini Lui ha bisogno Sì ovviamente Dell'ausilio Della forza Ma deve comunque Aiutarsi con la spada laser Cioè non è una cosa Infatti Non è che li assorbe Ma li disperde Quasi da un certo punto di vista Un po' li assorbe Un po' li disperde Però qui c'è il problema Quindi lui Utilizzando i fulmini In quel momento Fa vedere la sua vera persona Presumibilmente Una cosa che comunque Gli arreca un certo dolore Cioè comunque La sua finzione La sua maschera Si disfa Ma smettere di lanciare Sti cazzo di fulmini Palpati lo farà anche dopo Però Ah me li stanno Ritorcendo contro Ma io continuo A farle andare Due cose Però Io prezzo La teoria Della spada laser Ecco Quella Prego Perché la senso Due cose Due cose Però Hanno dette Perché giustamente C'è anche una super chat Di Leonardo Che dice Ragazzi Adesso cominciamo a leggerle No esatto Però Anticipo Diciamo Questa cosa qua Perché sono due cose Secondo me Altrettanto belle Prima Vi ricordate Quando vi avevo parlato Ci sono alcune inquadrature Che sono bellissime Come per esempio Quella dell'ho riportato Pace e giustizia Nel mio nuovo impero Io quella la trovo bellissima Ma c'è un'altra scena Che è spettacolare Dal mio punto di vista Ovviamente personale Quando lui È nel consiglio dei Jedi Che Mace Windu Gli dice No tu devi rimanere qui Diciamo il no definitivo Quello che poi provoca La La suo Il suo Capire Che dice L'unico modo che io ho Per farmi passare Le paturnie Che poi non sarebbe successo niente Se lui non avesse fatto Sta cosa È un altro discorso E siamo tutti d'accordo Quando lui nel consiglio dei Jedi Che c'è quel Qui sono quei momenti di silenzio Che c'è questa lievissima No Colonna sono là sotto Questo tramonto Su Coruscant Che sono Lui Che è come se ipoteticamente Lui e lei si guardassero Da un certo punto di vista E vedi Senti questa calma Prima del disastro Quella secondo me È Sono tre quattro scene Una dietro l'altra Sono bellissime Perché lui In quel momento No proprio Si vede Si vede lui Che non Gli è mai passata Questa cosa qui L'odio che aveva dentro Questo rancore Perché il suo proprio Rancore Che aveva dentro Non è mai passato Ed è quello che lo porterà Definitivamente All'altro scuro E poi Si guardano meglio Quando non sono in scena assieme Cioè quando si guardano Si si Assolutamente E poi Grande applauso Dal mio punto di vista Qui ci siamo Alla colonna sonora Di cui non abbiamo ancora parlato La colonna sonora c'è Ovviamente È una grandissima colonna sonora Tra l'altro In questo terzo capitolo Ovviamente abbiamo ancora più rimandi Ovviamente Alla La colonna sonora Della trilogia Originale È Bellissimo Bellissimo Da quel punto di vista Veramente niente da dire Vi dico altre cosucce Carine Il generale Grievous Che cacchio Di figo Porca puttana Io l'avrei voluto di più Lui e Dark Maul Gli avrei voluto di più Porca puttana Che spreco Sai cos'è Matioschi Cioè il punto Il punto che tu dicevi prima Se uno si sofferma Sui dettagli Obiettivamente Anche lo stesso Grievous Se uno ci pensa È un figo Ma allo stesso punto di vista Non ha senso Cioè tu lasci Un cuore pulsante Attaccato con due lembi di carne Scoperto Cioè basta fare così Tu glielo prendi Glielo tiri fuori E lui è morto Anche qui Grievous è figo Per l'universo espanso Per l'universo espanso È un altro È una macchietta comica Quasi Grievous Io il Grievous Lo collego A quel lavoro superbo Che hanno fatto Alla Sì Purtroppo Ogni tanto L'agra Credo si stia riferendo Alla serie animato In due dis Perché anche io Lo ricordo Quello Esatto Per cui Vedendo quel cartone animato lì Dà molta forza Grievous Però Io mi ricordo Che arrivavo dal cartone Appunto E al cinema Ho detto Ah sta roba qua Grievous È una macchietta comica Sembra il vecchio Pirata Ormai a fine carriera Ed un altro Incompetente Oltre perché non è a zecca una Oltretutto scopriamo Che segue gli ordini Da questo Che non sa manco Chi è Cioè lui non sa Che Sidious è Palpatine E il piano Vogliamo metterci Ad analizzare il piano All'inizio del film Anche lì È Palpatine Che vede 3000 futuri possibili È tipo Doctor Strange Perché Cioè ognuno aveva ricevuto Istruzioni diverse Cioè Duco Quando viene tradito Non se lo aspetta Grievous è evidente Che no Lui Ora Pitol Ora Pitol Non sa che lui Tra l'altro lo vede così Io dico Se tu mi vedi così Più o meno capisci Poi se vedi La figura intera Chi sono Invece Veramente una roba Tra l'altro Scena iniziale Spettacolare Anche lì A livello di dramma Chi sono i contendenti Cioè In quella scena Abbiamo Un'anakin Ancora un po' Lì Spaccone Lamentoso Che deve andare a liberare Un personaggio Che sappiamo Che è il cattivo Un personaggio Che è intrappolato Da un nuovo cattivo Grievous Di cui non sappiamo niente Di cui non ce ne frega La mazza Perché non lo approfondiscono Tutto finalizzato All'uccisione di Duco Che lo sta per Nel momento in cui Duco si rende conto Che l'hanno tradito Ma provare a dire Comunque Sidious e Palpatine Ma gli avrebbero creduto Ma non lo sapeva neanche lui Non lo sapeva neanche lui Un tentativo carino Anche perché Tra l'altro Palpatine in quella scena Si comporte in maniera stranissima Do it Di colpo diventa Mi scusi Lei cancella Perché mi sta dando ordini Per uccidere questo qua E poi Dobbiamo andarcene C'è poco tempo Lascia lì Obi-Wan a morire Mi scusi Finora siete stati belli tranquilli Lascialo a morire Non è per niente Sospetta questa cosa Tutti dei rimbambiti Comunque Duco Sa chi è Palpatine Sì 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 Lo sa Anche perché In episodio 2 Dice a Obi-Wan E se ti dicessi Che la Repubblica È sotto l'influenza Del signore Che tutti i senatori Sono sotto l'influenza Di Darth Sidious No aspetta un attimo Duco sa che c'è Darth Sidious dietro Ma non sa che Darth Sidious è Palpatine Sono abbastanza convinto Che lo sappia Non mi ricordo Sì sì Perché c'è anche Allora Perlomeno Lo sa Nel film Di voi però E Palpatine E poi lo ammazza Cioè Rendiamoci conto Allora Poi io vado un po' A semplificare il mio concetto Anche perché siamo alle battute Ci accingiamo alla fine Ci sono le supercette Da recuperare A livello di soggetto Tutto funziona Il problema è che Per funzionare questa trama Ha bisogno che Tutti i personaggi Palpatine a parte Siano degli emeriti idioti Tutti Dal primo almeno È una trama Che va avanti Per quello E prima volevo dire Una cosa a riguardo Cioè che Lucas ha fatto Un errore Nel senso Che lui probabilmente Voleva mostrare Tutti Diciamo Normalmente Intelligenti E Palpatine Super intelligente Super furbo Super scaltro Super figo Che capisce tutto Che ha la preveggenza E invece Ha fatto il contrario Cioè ha reso tutti idioti Tranne Palpatine Che è mediamente intelligente Perché con Con della gente così Idiota Probabilmente Però se ci pensi Una persona Mediamente scaltra Per poter Infatti Ma è quello Proprio È quello Uno proprio Degli inganni Del male In generale Se tu Instupidisci tutti E fai in modo Che tutti diventino Dei cretini Tu Che sei l'unico Che sa fare Due più due E automaticamente Sei in cima Alla catena alimentare Nel giro di meno di un mese Due dei cretini Erano cretini Già in principio tutti Il senato Poi c'è anche la storia Che il lato oscuro Ha annebbiato le menti E ok Però Le ha annebbiati per bene Dai Tanto Oggi mi sto facendo odiare Anche Palpatine Un attimino Allora È interpretato Da un grande attore Fino a quando Non si trasforma È carismatico Ha una presenza scenica Importante Il dialogo a teatro Che anche lì Mi scusi cancelliere Ma perché Lei sta parlando Dei sit Che in episodio 1 Erano una roba Dimenticata Lo sapevano solo i Jedi Neanche i Jedi Ci credevano tanto Perché lei mi sta raccontando Una leggenda sit Non è che magari Anzi Mi sta raccontando Una leggenda sit Screditando al contempo Il mio ordine Non è che quasi quasi Lei è un sit Però è una bella scena Recitata bene Nel momento in cui Si trasforma Ragazzi Va sopra le righe E non finisce più In episodio 6 Non era così E ritorniamo sempre lì In episodio 6 Ovviamente Ha i momenti di scatto Però È ridanciano È sempre tranquillo Se la ride Si bea È contento Qui un arterio sclerotico Ma perché Gli hanno messo la spada Matteoschi Qui gli hanno messo la spada L'hanno reso fisico In episodio 6 Un vecchietto Che si alza Tira fuori i furmini Ed è strapotente Anche Ritorno sempre lì Anche quando parla Al senato Sarà Vairano In italiano Non lo so Perché purtroppo Secondo me Lo rende Gollum Cioè quando diventa Sidious Diventa Gollum Ma anche In originale È molto Sopra le righe Ma chi crederebbe A questo qui Cioè dai C'è veramente Uno sclerato Incredico E ripeto Secondo me Si nota proprio Lo stacco Perché Prima della trasformazione Oh Grande performance Personaggio interessante Anche se non è approfondito Perché poi È il male puro Non è approfondito Non ha motivazioni Tridimensionali Ma va benissimo così Regge la scena Poi diventa Una macchietta Alla dottor male Di Austin Powers Che Posso inserire Posso inserire Tra l'altro Un altro momento Che Si calma Posso inserire Tra l'altro Un altro momento Che a me Posso inserire Un altro momento Che a me Ha sempre fatto ridere Devo dire Fin dalla volta Fin dalla prima volta Che l'ho visto Quando Yoda Arriva dall'imperatore C'è un momento bellissimo Cioè lui Entra e noi Ci sono questi due tizi Ma vaffanculo Così Ma a me Ha sempre fatto riderissimo Quello momento lì È bellissimo È meraviglioso Ma è Vogliamo parlare Le gag più riuscite Di tutta la preco Secondo me Perché vai conti Un personaggio E fai la gag comica Ma ha un senso Sì 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 Ha un senso Cioè proprio entra così Ma vaffanculo Boom È pericoloso Yoda Sì sì Vogliamo parlare Di Massamedda Che lì nell'ufficio Vede Yoda E fugge Va bello stereotipo Del cattivone Per me Peggiora Cioè si passa Da un personaggio Inquietantemente Tranquillo Affabile Sinistro È un peggioramento Non è un miglioramento Possiamo Mi spiace E non era così Possiamo pensare Che fosse Possiamo pensare Che lì fosse Ubriaco Di potere Invece in episodio 6 Ormai sono 23 anni Però da un certo punto di vista Se vogliamo dirlo Esatto Io sono d'accordo La resa qual è Quello che per me conta Hai ragione Hai ragione Però sono d'accordo Con Giovanni Quando dice Se tu ci pensi Questo qui Questa roba L'ha programmata In meno in 40 anni Ok Quindi in quel momento lì Tu sono 40 anni Che sei sotto sotto Capito così Quando arriva finalmente Senta il momento Che dici sono io Cioè ci sta Che tu dica Ti venga fuori Sta risata Malissimo Cioè E tra l'altro Era un piano Che i set Portavano avanti Da mille anni Eh capito Cioè Ci sta Tanto appeso Sulla navicella del senato Stavo morendo Della risata È troppo ragazzi Cioè Veramente Veramente Sì Che sia troppo Sopra le righe È vero Però devo dire Che da un certo punto di vista A me piace Anche per quello Cioè Quello ci sta Quello non Capisci quello che dici Lo vedo adesso Perché me lo fai notare Ma Degli insieme Diciamo che C'era Esatto A me piace A me piace C'è di peggio E poi Ultima cosa Passiamo alle super chat Velocemente È che È un episodio Il cui tono È dissonante Rispetto a tutto Il resto della saga No perché Non esiste un altro episodio Così cupo Così drammatico Ricordiamoci che per Lucas Questa è una saga Per bambini Beh oddio Scusami un secondo Però cupo è drammatico Ci sarebbe Anche l'impero colpisce ancora Ma non così C'è comunque umorismo Personaggi divertenti Intrattenimento Qui è tutto cupo Tutto Una sinfonia Che non fa una piega All'impero Qui ci sono diverse Diverse cose Sì è vero Sul fatto che questo Tenda di più al cupo È vero Però è anche vero Che da un certo punto di vista Forse Se non fosse stato Sarebbe stato peggio Perché alla fine C'è il momento In cui Si concretizza C'è proprio Il cattivo Si concretizza Quindi Qui ovviamente Sono gusti Però io preferisco L'evento drammatico Che rompe In una situazione Che fino a quel momento Era stata anche Ridanciana Che no Guarda la cupezza Questo è drammatico Sappilo E quindi Per tre quarti di film Tutti Che si parlano Timidamente Così Eh vabbè ma Ti amo Tu ti ami Non lo so Non lo so Secondo me Sei troppo critico Sei troppo critico Su questo episodio E' inevitabile E' palesemente Il più cupo Qui è inevitabile E' palesemente Sì Per alcun momento Non può andare bene Posto che secondo me È una palla assurda Tratti sto film Ma nel contesto Della saga È strano E' straniante Soprattutto quando Il creatore Ci dice Che ricordiamoci In chat L'hanno definito Il creatore Con la C maiuscola Scrivendo poi Lucas Con la K Quando il creatore Lucas Ci viene a dire Che è una saga Per ragazzini Per bambini Maestro Dove i bambini Vengono sterminati Ci può stare Può essere che sia Sadico io Però sai che Quando l'ho visto Che comunque Non ero Un adulto Non mi aveva Così sconvolto a me da sensibilone è quello che piace meno anche per quello perché è proprio iper dark è inevitabile, lo sapevamo fin dall'inizio mi ricordo quando c'è episodio 1 che quando arriverà il 3 sarà il disastro perché Anakin che è buono diventerà Darth Vader per cui però un'altra cosa che apprezzo un'altra cosa che apprezzo è che meno male lì in quel caso veramente sia lodato George Lucas, perlomeno a livello immaginifico è l'unico film degli anni 2000 che pur essendo cupo è pieno di colore a livello di immagine sto parlando perché gli anni 2000 che sono stati, ricordiamolo il buco nero dell'umanità per praticamente il 90% delle cose c'è stata questa cosa che un film non era cupo cioè i temi non erano sufficientemente in cupi se la colorimetria non andava sul cupo, mentre invece questo anzi questo è un plus, il fatto che riesca a essere cupo nonostante abbia dei colori molto vividi perché l'immagine è vividissima in realtà e questo lo rende ancora più vivo però questa è una considerazione personale quindi io leggo episodio 3, era giusto farlo così e la fine di un'era con una tragedia in mano è una tragedia di cui non frega niente a nessuno però e parlo di personaggi interni la guerra dei cloni è finita ok cioè pensate al cittadino di Coruscant guerra dei cloni è finita i Jedi erano cattivi questo è diventato Vader una tragedia in male boh allora sul fatto che la recitazione dei personaggi che poi fosse fortemente comunque diretta da Lucas in un certo modo cioè secondo me se i personaggi avessero recitati in un altro modo e sappiamo che forse l'unico caso è un po' Christensen di cui non abbiamo altri esempi però sappiamo che gli altri sono in grado di performance molto più sentite ok poi uno la può giustificare con il fatto cioè anche Obi-Wan quando scopre questa cosa dice delle cose vere che una persona direbbe però ha un'espressività più limitata cioè forse non so uno la mette dire vabbè è un Jedi abituato però obiettivamente c'è una persona che sono 30 anni che è lì con te che improvvisamente ci mette a fare queste cose allora è da tutta la diretta che c'è un utente molto simpatico che saluto che mi dice che i Jedi stavano facendo una cosa che non gli era consentita avevano preso il potere ma il potere gliel'ha dato il Senato ragazzi il Senato gli ha detto voi Jedi guidate l'esercito non se lo sono presi loro gliel'han dato sì e il motivo anche lì non presente nei film era proprio quello di screditare i Jedi agli occhi dell'opinione pubblica però non è presente nei film quindi sì le risposte poi un'altra cosa se mi posso permettere le risposte ci sono tutte ma ci sono alcuni film che non ce le hanno le risposte non ti dicono neanche vai a cercartele perché magari vengono poi pensate anni e anni dopo perché dicono eh questo film però ha qualche carenza che cosa facciamo e allora poi la spieghi ok super chat velocissime abbiamo Matteo Pettirossi lasciando perdere i romanzi secondo voi la leggenda di Plaggis è vera o falsa? vera secondo me dice lui è stata pensata da Lucas solo come trappola di Palpatine secondo me è vera invece gioca su questo secondo me gioca su quello e finché non tireranno fuori Dark Plaggis sarà così ognuno avrà la sua versione il fatto che abbiano reso non canonico il romanzo la dice lunga anche perché potevano tranquillo tranquillamente renderlo canonico per cui no perché andava poi a confliggere con The Clone Wars se non sbaglio però va bene ma anche Plaggis andava andava contro qualcosa che viene raccontato il romanzo spiegava la storia di Darth Maul in modo diverso e quindi sì poi ringrazio Luca Devil Kazuya per la donazione senza domanda Mary Zan dice bastava farsi la domanda cui protest in episodio 1 sì bastava che qualcuno si fermasse a dire ma chi è che è il grande favorito di questa guerra chi è che ne sta traendo i maggiori vantaggi non è che magari è lì ma qui una cosa se posso dire anche lì in episodio 3 continuano a dire eh c'è qualcosa di strano eh non ci fidiamo del cancelliere però non dicono mai ma non è che sarà lui il signore dei Sith ma era così gentile salutava sempre poi eh K1D è risaputo che i fulmini invecchiano probabile Leonardo Di Mauro per quanto riguarda la colonna sonora di questa trilogia meglio quella della trilogia originale o anche questa si difende bene si difende bellissimo secondo me secondo me in vetta in vetta a livelli altissimi sì 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 Duel of the Fates ma anche eh poi la Battle of the Heroes esatto del duello Troby One e Anakin tutto ma no è meraviglioso forse nel complesso è la più bella in assoluto anche più della trilogia classica eh diciamo che ha il senso di essere ancora più epica più più grandiosa sì è più epica diciamo che esatto cioè è difficile qui la valutazione perché sono meravigliose entrambe eh se prese nel complesso però diciamo che ehm io rimango comunque più attaccato alla colonna sonora della trilogia originale ma questa di episodio 3 è la più completa completa e varia sì completa e varia bravo sì ha dei toni parecchio diversi l'uno dall'altro e ti permettono di ascoltarla in macchina sempre molto volentieri esatto a livello di musica no esatto la trilogia classica ha dei momenti in cui c'è questa musica di sottofondo che non dico che annoia ma è musica che ti racconta in chiusura e in chiusura sulla questione colonna sonora faccio una piccolissima chiosa sul sonoro perché è altrettanto importante eh anche in questo stringo tantissimo anche in questo episodio 3 e lo dico per tutta la trilogia prequel Ben Burt ha fatto un lavoro straordinario dei dei ha creato ed inventato di sana pianta mischiando anche dei suoni pazzeschi che ancora oggi fanno scuola eh poi Yas Not Said fa una domanda pericolosissima anche un po' off topic meglio Star Wars o la MCU Star Wars io posso rispondere tranquillo per me non è proprio paragonabile no meglio Star Trek o Star Wars sono due gare completamente diverse se nati in due periodi storici no assolutamente poi la mia risposta è da preferenza personale e basta prendendo la domanda nello spirito più ludico e divertito che ci possa essere a livello affettivo probabilmente Star Wars a livello di qualità generale MCU sono d'accordo a malincuore ma sono d'accordo ma vince comunque Harry Potter secondo me a livello di qualità secondo me allora io ti dico ti dico Star Wars e Star Trek insieme basta però sono d'accordo con la risposta di Matioski a livello di affetto Star Wars a livello di gestione vedendo anche la trilogia sequel eh sì K-Tubo D Yoda che entra chiedendo permesso è il top del film no veramente quella scena è bella ma infatti lo ripeto io preferisco tutta la dinamica tra Yoda e Palpatine che tra Obi-Wan e Anakin e lì uno dei due è un fantocci in CGI però è molto più da più soddisfazione non so perché intanto c'è vai Yes Brothers che ci dice no ma anche lì vabbè quella è la battuta finale posto che non ce ne fosse bisogno ma tra tutti no che poteva registrare il doppiatore ma perché quello ma soprattutto perché citare Frankenstein ma perché perché ma ancora tra l'altro dopo vi faccio vedere una chicca no io io leggo di quella scena dove è Padme dove è Padme eh quello è un po' purtroppo infatti è per quello che secondo me come dicevi tu Robby prima quella scena lì che dovrebbe essere proprio il non plus ultra secondo me tempi dovevano essere tempi più lunghi e pochissime parole anzi se non avesse parlato del tutto forse sarebbe stato ancora meglio nicchia ma certamente ancora meglio riprese guardate che bellezza adoro cioè immaginatevi una scena del primo respiro con quei due tre secondi in più e senza che Palpa gli dica nessuno dice niente semplicemente lui si alza tramite perché poi una delle cose belle di Darth Vader era proprio che si intuiva quello che ne avevamo parlato in episodio 6 si intuiva quasi quello che stesse pensando dalla maschera cioè se lui si fosse semplicemente girato intendeva guardava l'imperatore guardava qualcosa poi magari bastava anche solo un'immagine tipo di quello che stava accadendo se lo avessero fatto in contemporanea che ne so ai funerali di Padme su Nabu e magari soltanto un'immagine su uno schermo che trasmetteva questa cosa e tutto quanto e lui in silenzio che a un certo punto distruggeva tutto con questa telecamera che vai via e si vede semplicemente la distruzione e dietro l'imperatore che ride basta era perfetto sì infatti di solito i Lego parodizzano qui non ne hanno il bisogno cioè no 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 quando dici dove è Padme rido ancora ogni tanto ho detto al cinema ma cos'è dove è Padme vabbè allora il momento più temuto da grandi e piccini la classifica eh ma tanto secondo me qui lo alzerete di parecchio eh quindi secondo me quest'oggi perderò io Andros eh io ho perso la volta scorsa perché la mia classifica la mia classifica era addirittura al primo posto di Torno dello Jedi per una questione concettuale eh sicuramente allora intanto perché sto ragionando nel frattempo sicuramente episodio 3 il migliore della della trilogia prequel per me sicuramente sicuramente il migliore ehm per una questione di affezione per una questione di innovazione che hanno portato tutto quanto io ti dico subito dopo eh ah no eh 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 abbiamo primo l'impero secondo non nuova speranza terzo ritorno dello Jedi quarto minaccia fantasma quinto attacco dei cloni ma io la posizione la devo inserire quindi nella classifica finale di tutti insieme o nella mia classifica personale qua nella classifica come la vedi eh ormai qua nella classifica come la vedo eh osti eh allora eh figaro eh allora te lo devo mettere al quarto posto per forza perché perché se avete messo il titolo al quarto posto ok ok Roby io vado di cuore senza ragionamenti senza ragionamenti giustissimi che ha fatto Andros e sarò impopolare mi faccio odiare anch'io ma lo metto dopo l'attacco dei cloni oh la la ultimo perché alla fine è quello che mi ha mi ha divertito di meno ecco e questa è la verità mi ha divertito poco perché è molto drammatico per cui il mio non è neanche un ragionamento logico di cinema è un ragionamento di cuore da 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 empatico e sono stato male a vedere quel film a livello anche vedere questo passaggio mi ha mi ha fatto male per cui lo metto dopo tu eri destinato tu eri destinato a fare l'equilibrio nella classifica non a distruggerla quindi sto al quarto ci sta dai sto al quarto però non devo fare no dai allora per la classifica così com'è perché ovviamente la mia poi è completamente diversa però per la classifica così com'è lo metto terzo terzo oh dai che così fa media vai io invece lo metto quarto come il signor Andros quindi facciamo i nostri calcolini perché non abbiamo trovato la maggioranza quest'oggi e quindi vediamo un po' qual è la media matematica è più o meno media secondo me è il quarto quindi eh sì ok ok vediamo sì alla fine è il quarto alla fine vince quel quarto posto e secondo me è perfetto ho vinto ancora anche oggi beh io mi sarei aspettato l'avessi messo all'ultimo posto no è comunque il migliore quindi no perché ti dico la mia classifica personale al ritorno dell'oggi dell'impero pisce ancora nuova stranze episodio 3 2 1 eh per il semplice fatto per il semplice e ti dirò forse episodio 3 lo alzerei ancora di più ma l'importanza che ha avuto una nuova speranza cioè non si può già in terza posizione comunque quindi secondo me la vendetta di Sith è il migliore di prequel perché beneficia del collegamento con la vecchia trilogia quindi alcune cose è il migliore della prequel sì primo respiro di Vader tante situazioni vedere anche la scena finale con i soli di Tatooine sapendo cosa accadrà funziona però ti dico però ti dico che io ero indeciso ero indeciso se se farlo tra il terzo e il quarto posto cioè nel senso per l'importanza che la trilogia la trilogia originale ha dal mio punto di vista deve tenere il podio ma io episodio 3 lo avrei messo sul podio cioè se avessi dovuto scegliere semplicemente una cosa personale io solo che cerco di valutare tutto ma io l'avrei messo comunque almeno al terzo posto sul podio no io non proprio no io nella mia classifica tu l'hai messo di tutti i film terzo poi tra quelli usciti finora dico secondo sì e lo posso dire no esatto e lo posso dire perché anche se io lo avessi messo al terzo comunque sarebbe quarto per una questione di media perché Roby l'ha messo al quinto quindi comunque non cambierebbe però io sono d'accordo con te Giovanni no 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 sono d'accordo con Giovanni anzi quasi quasi lo metto anch'io al terzo ti dico un po' quasi quasi tanto non cambia niente tanto non cambia nulla che sia terzo quarto comunque quarto a livello alla fine della media quindi non sono d'accordo però ha vinto il quarto posto e lì sono d'accordo vedremo se Roguano lo supererà ci dicono io vi posso già dire io vi posso guarda ne parleremo poi sicuramente io posso già fare uno spoiler perché l'ho soprannominata la merdilogia la trilogia nuova quindi potete immaginare che chissà che voti da Rai esatto chissà che voti da Rai li asfalto quei film io se da settimana prossima li asfalto il picciò di otto deve star tra i primi cinque anche tra i primi tre girando la classifica ci sta al primo posto girando la classifica sì 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 io guarda secondo non facciamo spoiler l'unico secondo me che veramente può infilarsi in mezzo a sorpresa no sono due due possono farcela per quelli che sono i miei gusti due che non sono i film della saga principale ma quindi scusate poi quando finiremo anche la merdilogia dopo faremo gli scusate gli spin off e però gli spin off faremo in ordine di uscita come abbiamo sempre fatto sette Rogue One otto solo nove ok però anche loro quindi vanno nella classificona anche loro quello l'interesse certo è ostrega no lì è un casino no lì mi fate superare no ma lì mi fate superare episodio 3 mi girano i coglioni perché lì sicuramente uno me lo tirate su perché è inequivocabilmente un bel film che è Rogue One quindi cioè eh sì ma vedrai vedrai che secondo me invece c'è il rischio che non superi allora Giovanni siamo rimasti in pochi nel consiglio dei Jedi perché Robby si è convertito al lato oscuro quindi eh ma ma mi sa che la nostra amicizia finirà presto ecco vedo già vedo già le botte ho letto episodio 8 tra i migliori della saga mi viene un male a Lernia zio can io non lo spoiler ma tanto avete capito aiuto no 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 non si può fare io ragazzi sto già male per le settimane prossime sapete una roba poi vi mollo perché se no non smetto più bisognerebbe capire in quale modo cioè perché come devi dare la tua votazione io adesso non ho votato per la qualità effettiva del film no ho votato per un mio discorso di cuore ma ci sta episodio 3 è inequivocabilmente il migliore dei tre senza dubbio è quello che mi ha fatto più male episodio 1 è quello che mi ha divertito di più ma infatti come ti dicevo io io di cuore di cuore lo metterei al terzo posto se devo essere onesto cioè dal dal mio punto di vista ovviamente su tutto lo metto al quarto ma è per quello che io che lo metto al terzo al quarto non cambiava alla fine della classifica però di cuore io lo metto al terzo lo metto sul podio è un delirio è un delirio di cuore sì benissimo direi che abbiamo finito alla fine è stato un negoziato meno combattivo del previsto sì no ringrazio i miei ospiti cominciando da Dark Andros grazie mille signor Matioschi a tutti gli ospiti a voi che ci avete seguito devo dire una rubrica eccezionale io sono veramente ogni settimana sono contentissimo che sia mercoledì per poter venire a parlare di una delle saghe più belle della storia del cinema qui potete è per me ovviamente così perché ha unito ha diviso ma soprattutto ha unito e questa è la cosa fondamentale anche perché dovrebbe essere quello che fa la forza che ricordiamoci non è democratica ma la forza è amore punto saluto ringrazio Roby parleremo della democrazia ciao Roby grazie Mattia mi fa sempre piacerissimo essere qua con voi è bello discutere perché alla fine si discute si impara un sacco di cose e si guardano anche i film da un punto di vista diverso e ci si mette in discussione cosa che non è così scontata per cui sono ben contento di esserci e spero di non mancare più saluto ringrazio anche Giovanni di Star Wars Libri e Comics che poverino abbiamo detto non c'è bisogno di leggere i libri i fumetti in realtà per approfondire sì se siete appassionati c'è un sacco di roba bella esatto niente allora ti ringrazio intanto per l'ospitalità e naturalmente ringrazio Andros e Roby per la compagnia quest'oggi mi aspettavo anche io devo dire una live più combattuta e questo mi fa quasi quasi pensare che forse neanche le prossime saranno combattute allora per esperienza soprattutto se Victor deciderà di presenziare di più Episodio 8 sarà la fine cioè di amicizie di alleanze tradimenti con Episodio 8 di tutto la mia posizione non lo esiste ma tanto la sapete tu vai sull'alto io vado io vi dico soltanto io vi dico soltanto che la nuova trilogia la merdilogia io la distruggerò e probabilmente anche Victor è dalla parte di Giovanni se non ricordo male sì 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 per Victor Episodio 8 è un filmone per me anche film ma discutì ma ci arriveremo ragazzi no a me non piace la trilogia sequel a me piace Episodio 8 e basta e basta eh sì perché qualcuno scriveva no no non mi piace la sequel mi piace Episodio 8 ok 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 benissimo allora ci vediamo settimana prossima con Episodio 7 il risveglio della forza comincia il gran divertimento alla prossima grazie per averci stati con noi ci vediamo mercoledì alle 14 con l'inizio della trilogia della nuova trilogia Rey Skywalker nel nostro cuore sempre mai mai grazie a tutti